Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dopo il termine della sua presentazione, mentre normalmente noi lasciamo la discussione alla fine di tutte le presentazioni. In questo caso faremo un'eccezione. Ho quindi il piacere di dare la parola alla dottoressa Belcaro che inizierà con la sua presentazione. Buongiorno, grazie per aver accettato l'invito. Buongiorno a tutti. Oggi parleremo appunto di abnormal uterine bleeding e algoritmi per la gestione nelle diverse fasce di età. Io mi concentrerò sulla parte epidemiologica e su quelli che sono gli algoritmi diagnostici. Il sanguinamento uterino anomalo è un evento estremamente frequente. Coinvolge circa il 10-30% delle donne in età fertile e in perimenopausa circa il 90% presenta almeno un episodio di sanguinamento uterino anomalo. Il 78% delle donne addirittura ne presenta almeno 3. Vediamo che le categorie quindi più colpite da AUB sono le adolescenti che circa nel 20% dei casi hanno episodi di sanguinamento uterino anomalo e il 50% delle donne tra i 40 e i 50 anni. La FIGO ha pubblicato recentemente i parametri per definire normale o anormale il ciclo mestruale e quindi è considerato normale un ciclo con una frequenza tra i 24 e i 38 giorni, di una durata inferiore agli 8 giorni, con una, diciamo, è considerato regolare se la variazione tra i cicli è inferiore ai 7-9 giorni e il volume, la valutazione soggettiva su quello che riferisce la paziente. Il sanguinamento intermestruale invece non è mai considerato normale. Quando presente questo viene valutato come un evento casuale, quindi non prevedibile o può essere ciclico. In questo caso è importante determinare durante quale fase del ciclo avviene. E poi abbiamo i sanguinamenti uterini non previsti, diciamo, in corso di terapia ormonale. Anche nelle linee guida del 2018 per la sindrome dell'ovaio policistico hanno dato delle indicazioni per quanto riguarda le irregolarità mestruali che sono considerate normali nel primo anno dopo il menarca e vediamo poi invece che tra il primo e il terzo anno dopo il menarca vengono definite irregolarità per cicli inferiori ai 21 giorni o superiori ai 45 e dai tre anni dopo il menarca fino alla menopausa vengono considerati come cicli irregolari, cicli di durata inferiore ai 21 giorni o superiori ai 35 giorni o una frequenza inferiore a 8 cicli per anno. Il sanguinamento uterino anomalo può essere considerato acuto quando abbiamo un singolo episodio di sanguinamento uterino severo che necessita di un intervento immediato per prevenire ulteriore perdita di sangue oppure cronico quando ha una frequenza, diciamo, superiore a 4 episodi nei 6 mesi precedenti che viene espresso con un aumento del volume o come un'irregolarità e un'alterazione del ritmo del ciclo mestruale. Definiamo poi il sanguinamento mestruale severo, heavy menstrual bleeding, come un sanguinamento importante e questo però è riportato dalla paziente, quindi che riferisce a un incremento del normale volume mestruale incremento che va a interferire con le normali attività che quindi va a alterare la qualità di vita della paziente. E infine il sanguinamento intermestruale, come dicevamo, è un sanguinamento che si verifica tra i cicli mestruali normalmente regolari e questo può essere casuale oppure prevedibile. La Figo ha creato questo cronimo ormai credo conosciuto da tutti, PalmCoin, per riassumere le principali cause di sanguinamento uterino anomalo e distingue quindi tra cause strutturali, polipi, adenomiosi, leiomioma e cause tumorali da cause non strutturali, quindi le coagulopatie, disfunzioni angulatorie, disfunzioni endometriali, cause iatrogeniche o cause non altrimenti classificabili. Tra le cause strutturali, scusate mi sono accorta che il T9 mi ha corretto più volte sanguinamente in sanguinolento, abbiamo i polipi che sono una proliferazione epiteliale delle ghiandole endometriali del tessuto stromale ed il polipo è generalmente dotato di un peduncolo vascolare. Raramente sono maligni e tendono a dare AUB cronica finché non vengono rimossi. Il 68% dei polipi si presenta con AUB e nelle donne in pre-menopausa il 39% dei casi di AUB la causa è dovuta proprio al polipo endometriale. Nelle donne in post-menopausa l'AUB è dovuta a un polipo endometriale invece nel 20-28% dei casi. Per quanto riguarda la diagnosi di polipo endometriale si è visto che le biopsie alla cieca hanno una bassa sensibilità e un basso valore predittivo negativo, mentre con la biopsia isteroscopica la specificità è molto elevata dell'87 al 100% e come anche la sensibilità. Inoltre, mediante isteroscopia è possibile eseguire la rimozione del polipo stesso durante un unico esame, durante lo stesso esame, quindi riducendo poi le procedure necessarie per la paziente. Un'altra causa di AUB strutturale è l'adenomiosi. L'adenomiosi è la presenza di tessuto endometriale a livello del miometrio. Questa può essere diffusa, focale o polipoide. È un scontro frequente dopo chirurgia uterina e generalmente determina una AUB cronica e si associa a un aumento delle dimensioni uterine e spesso di smenorrea. L'età tipica di insorgenza è tra i 30 e i 45 anni. Il gruppo Musa ha identificato dei criteri ecografici che permettono di diagnosticare l'adenomiosi e quindi ovviamente quando abbiamo una donna che presenta dei sintomi sospetti è indicato una valutazione ecografica di secondo livello di qualcuno che sia in grado quindi di identificare questo tipo di patologia. Un'altra causa molto frequente di AUB sono i fibromi, le iomiomi, i tumori fibromuscolari benigni del miometrio che nella maggior parte dei casi sono asintomatici ma possono dare segno di sé o per le grandi dimensioni e quindi quando causano dolore pelvico o compressione delle strutture adiacenti o soprattutto quando sono sottomucosi possono dare sanguinamento uterino anomalo. Anche in questo caso generalmente è un evento cronico quindi che tende a ripetersi nei cicli ma soprattutto per i miomi peduncolati o di tipo 1 quindi che spolgono per la maggior parte in cavità uterina si possono avere anche episodi di sanguinamento acuto molto importanti, molto severi. La classificazione dei miomi da parte della Figo riconosce 8 classi di miomi che si differenziano in base al rapporto con la mucosa, al miometrio e alla sierosa. Vediamo che le prime 3 classi 0, 1, 2 sono i fibromi sottomucosi e poi vengono classificati come ADER, quindi tutti i fibromi intramurali o sottosierosi. Come dicevamo i miomi sottomucosi sono un'importante causa di sanguinamento uterino anomalo e i possibili meccanismi per cui questi danno AUB sono molteplici. Abbiamo innanzitutto un aumento della superficie endometriale e un aumento della vascularizzazione uterina. Inoltre la presenza del mioma determina una modificazione nella contrattilità uterina e quindi ovviamente una minore efficacia nel controllo del sanguinamento. Si ha poi una esposizione, un'ulcerazione della superficie sottomucosa del mioma e si può avere una degenerazione del nodulo miomatoso. Inoltre si pensa ci sia una compressione del plesso venoso da parte del nodo del mioma che causa quindi un'ectasia venosa uterina e questo anche può aumentare il sanguinamento. Anche per i miomi il trattamento è chirurgico, per cui ovviamente nel momento in cui andiamo a diagnosticare un mioma dobbiamo indirizzare la paziente verso il corretto iter terapeutico. Abbiamo poi come altra causa strutturale la malignità e l'iperplasia in cui la coincidenza sta aumentando anche in relazione all'aumento dell'obesità e del diabete nella popolazione femminile. La causa più frequente è un iperestrogenismo non antagonizzato dai progestinici e quindi entrano in gioco diversi fattori. Abbiamo fattori riproduttivi come la nulliparità, il menarca precoce, la menopausa tardiva, sindrome dell'ovaio policistico, i tumori ovarici e estrogenos e cernenti, la terapia ormonale sostitutiva in menopausa, terapia con tamposiferia, obesità, il diabete e la sindrome metabolica. Tra le cause non strutturali di sanguinamento uterino anomalo abbiamo le coagulopatie che possono essere sia congenite che acquisite. Generalmente la donna presenta un'anamnesi positiva per epistassi, per facilità di sanguinamento, facilità di formazione di lividi. Generalmente questo tipo di problematica si presenta fin dal menarca, quindi sono donne che da sempre hanno avuto cicli mestruali molto severi, con perte di sangue molto importanti. Tra le cause più frequenti ci sono la malattia di von Willenbrandt, che è una malattia ereditaria a trasmissione autosomica dominante, e poi possiamo avere invece altre cause come trombocitopenia, mielosopressione. Tra le cause non strutturali abbiamo poi la disfunzione ovulatoria, che si presenta generalmente con dei cicli mestruali irregolari per ritmo, durata e quantità. E come accennavamo prima, questa è la causa più frequente di AUB subito dopo il menarca o in fase perimenopausale. È importante però escludere anche altre cause di tipo endocrinologico che possono andare a interferire con la funzionalità ovarica e quindi determinare poi un ciclo irregolare. Abbiamo poi la disfunzione endometriale, che si presenta con dei cicli mestruali a carattere emorragico e in questo caso si ha una inadeguata produzione di prostaglandine con azione vasocostitutrice a livello locale. Si ha un'aumentata lisi endometriale dovuta a un'aumentata produzione di attivatore del plasminogeno e un'aumentata risposta infiammatoria. A questo si può associare anche un'alterata angiogenesi e quindi un'alterata riparazione endometriale dopo la mestruazione. L'insieme di questi fattori porta quindi a un AUB generalmente di tipo cronico e severo. Abbiamo poi alcuni farmaci che possono causare sanguinamento uterino anomalo. Sappiamo che ad esempio le IUD medicate al progesterone possono nei primi sei mesi dare perdite intermestruali. La terapia esteroidea, terapie con anticoagulanti, la digitale. Generalmente in questi casi la AUB si risolve alla sospensione della terapia. E poi abbiamo delle forme che non sono classificabili in nessun box come ad esempio le malformazioni ateroverose che però sappiamo essere forme più rare. Nella maggior parte dei casi la AUB è benigna ma rappresenta il primo sintomo di cancro endometriale che sappiamo essere il quarto cancro più comune nella donna con un picco di incidenza tra i 60 e i 65 anni. Il cancro endometriale è un cancro che già generalmente si intoma di sé molto precocemente appunto con il sanguinamento e questo fa sì che nella maggior parte dei casi venga diagnosticato in fasi, in stadi molto precoci con una survival rate a 5 anni del 90%. Ma dobbiamo ricordare che nel 5% dei casi coinvolge donne in età, scusate, il 5% delle donne in età riproduttiva soffre di una patologia maligna. Quindi anche una donna che arriva in età riproduttiva con AUB deve essere inquadrata in modo corretto appunto per non perdere nessuna diagnosi di patologia maligna. I fattori di rischio per cancro dell'endometrio li abbiamo citati prima e oltre a quelli che determinano un iperestrogenismo non bilanciato abbiamo anche la familiarità per il cancro dell'endometrio e la sindrome di Lynch che è associata a delle forme di cancro dell'endometrio e di insorgenza precoce. Come abbiamo visto l'AUB è quindi una patologia molto frequente un evento molto frequente nella vita di una donna e con un'altissima incidenza. è importante, fondamentale, trovare un giusto algoritmo diagnostico che ci permetta di identificare tutte le donne effettivamente a rischio di patologia maligna e che ci permetta ovviamente di trattare l'AUB perché anche se non dovuto a una patologia maligna è comunque un evento da trattare e da correggere ma dobbiamo stare attenti a non incorrere in una overdiagnosis e a un overtreatment. Andando a distinguere le cause e gli interdiagnostici nelle varie fasce d'età ovviamente vediamo che nelle adolescenti la causa più frequente sono i cicli all'ovulatori e questo ovviamente ci guida un po' poi in tutto il nostro iter diagnostico. Il tempo necessario perché i cicli diventino ovulatori e regolari è correlato all'età del menarca. Si è visto che più precocemente avviene il menarca più velocemente si instaurano poi i cicli ovulatori regolari. Nella maggior parte dei casi si raggiunge un pattern mestruale regolare almeno uno o due anni dopo il menarca. Abbiamo visto quindi che la causa più frequente di AUB nelle adolescenti è l'immaturità dell'asse ipotalamo-ipofisi ovaio che determina appunto questi cicli annovulatori ma dobbiamo comunque escludere tutte le altre cause quindi escludere la gravidanza, disordini della coagulazione la sindrome dell'ovaio policistico, disfunzioni tiroidee, disfunzioni ipotalamiche, contraccezione e eventuali infezioni. Nelle ragazze, nelle adolescenti sicuramente uno dei fattori importanti è quello correlato alle disfunzioni ipotalamiche. Sono moltissime le ragazze che soffrono di disturbi alimentari che quindi presentano importanti alterazioni del peso corporeo e sono molte le ragazze che praticano un'attività fisica intensa che può andare ad alterare quindi quello che è il normale pattern mestruale. Quindi quando si presenta una ragazza con AUB ovviamente in caso di AUB severa, acuta è importante valutare la stabilità emodinamica della paziente eseguire un test di gravidanza se la ragazza è sessualmente attiva e quindi si procede con l'anamnesi familiare, anamnesi patologica si raccoglie quella che è la sua storia mestruale e come dicevamo all'inizio il sanguinamento uterino severo non è oggettivabile da parte del medico ma viene riportato dalla paziente come un sanguinamento che va a interferire con le sue normali attività e va a influenzare la sua qualità di vita e va poi ovviamente richiesto alla paziente se si attiva sessualmente. È stata creata questa pictorial blood loss assessment chart per cercare di quantificare l'entità delle perdite matiche durante il ciclo, durante la mestruazione in cui la paziente quindi segna il numero di assorbenti o di tamponi utilizzati il numero di coaguli che vede passare durante la giornata e viene assegnato un punteggio si è visto che però in realtà questo tipo di tabella, di scheda non è facilmente utilizzabile e quindi di fatto poi nella maggior parte dei casi viene semplicemente utilizzato il dato anamnestico della paziente viene quindi fatto un esame obiettivo una valutazione ginecologica esame obiettivo generale vengono valutati i genitali esterni viene valutato lo sviluppo puberale si ricercano altre fonti di sanguinamento l'esame pelvico viene da evitare in pazienti virgo salvo in casi selezionati in caso di sanguinamento uterino severo inarrestabile o in caso di un sanguinamento anomalo che persiste di cui non si riesce a capire la causa nel nostro istituto quando si ritiene opportuno eseguire un esame pelvico in una paziente virgo generalmente viene fatto in sedazione e come primo approccio utilizziamo la vaginoscopia quindi per cercare di essere il meno invasivi possibili per quanto riguarda poi l'ecografia questo è utile soprattutto nelle ragazze con dismenorragione per verificare che non ci siano problemi legati all'outlet cervicale o vaginale e poi può permettere di diagnosticare fibromie, masse ovariche, PCOS anche in questo caso l'ecografia può essere transvaginale in una paziente che ha già avuto rapporti si predilige l'ecografia transaddominale ovviamente nelle pazienti virgo dal punto di vista laboratoristico andiamo a valutare l'emocromo si valuta l'assetto ormonale quindi sicuramente importante il TSA che è la funzionalità tiroidea la prolattina indicata soprattutto in caso di cefalea e galatorrea e nel caso in cui si sospetti una sindrome dell'ovaio policistico utile testare il testosterone libero nel caso di sanguinamenti severi è importante valutare anche le prove emogeniche e il panel di von Willembrand appunto per escludere una causa di coagulopatia ereditaria inoltre nelle ragazze sessualmente attive è importante anche eseguire lo screening per le malattie infettive a questo punto dovremmo aver raggiunto insomma un sospetto diagnostico e possiamo quindi iniziare a trattare la nostra paziente nel modo più opportuno nelle donne in età fertile il percorso ovviamente iniziale è molto simile quindi si parte da un'anamnesi dalla storia mestruale, l'attività sessuale è importante anche l'anamnesi ostetrico-ginecologica in quanto sappiamo che progressi e interventi ginecologici possono determinare, possono portare a delle alterazioni che favoriscono un'insorgenza di sanguinamento uterino anomalo come il taglio cesareo e ad esempio la formazione di un istimo cele è importante chiedere alla paziente quando è eseguito l'ultimo pap test valutare l'utilizzo di contraccettivi e valutare tutti i fattori di rischio per cancro endometriale si esegue quindi l'esame obiettivo generale la valutazione ginecologica la valutazione genitali esterne dell'esame pelvico se la paziente non ha eseguito un pap test di recente indicato, si può eseguirlo e si può eseguire durante la visita e quindi si esegue l'ecografia transvaginale a livello laboratoristico valutiamo sempre l'emocromo il TSH prolattina sempre in caso di cefalea la torrea se la donna è sessualmente attiva si fa uno screening per le malattie infettive e poi test di gravidanza nelle donne in età fertile il sospetto di una disordine dell'emostasi deve essere posto quando a cicli mestruali severi soprattutto se fin dal menarca si associa a uno dei seguenti criteri quindi moraggia postparto sanguinamento durante chirurgia o durante operazioni, interventi di tipo odontoiatrico e se sono presenti due o più dei seguenti sintomi quindi facilità a formazione di lividi una o due volte al mese epistassi frequente sanguinamento gengivale o una storia familiare positiva per sintomi di sanguinamento in questo caso è sicuramente indicato eseguire le prove emogeniche e la valutazione per la malattia di von Willenbrand nella valutazione della Figo del 2018 quindi vediamo che in caso di AUB cronica definita come un aumento della durata del volume e della frequenza per più di tre mesi dopo l'anamnesi quindi valutato il rischio di disfunzione ovulatoria e malattie o altre condizioni mediche associate si esegue l'esame obiettivo e eventualmente come dicevamo le indagini di laboratorio per quanto riguarda la valutazione uterina questa può essere fatta in diversi modi a seconda di quello che è il nostro sospetto clinico se abbiamo un forte sospetto di iperplasia o neoplasia è indicata la biopsia endometriale che in molte linee guida in realtà viene indicata come una biopsia endometriale alla cieca se il campione è adeguato e abbiamo una diagnosi di iperplasia o di carcinoma ovviamente la paziente verrà inviata a trattamento specialistico se invece l'esame istologico è negativo andremo a trattare la paziente come una AUB da disfunzione ovulatoria o endometriale nel caso in cui la biopsia non risulti adeguata il campione non risulti adeguato si può inviare la paziente a valutazione esteroscopica nel caso in cui invece il rischio immaginiamo che la paziente sia elevato il rischio di anomalia strutturale viene inviata a ecografia questo tipo di algoritmo ovviamente è un algoritmo che secondo me si discosta abbastanza da quella che è la realtà italiana nel senso che in Italia credo che in quasi ogni centro ci sia una facile accesso all'ecografia che viene fatta quasi di routine durante la visita ambulatoriale in America ad esempio non è così e di conseguenza ovviamente hanno dei canali diversi degli algoritmi diagnostici diversi da quelli che possiamo avere noi se la cavità endometriale risulta normale la paziente all'ecografia la paziente viene indirizzata quindi viene identificata come una normal uterine bleeding da causa endometriale o ovulatoria e quindi verrà eventualmente valutata per trattamento medico se invece la cavità endometriale risulta alterata possiamo inviare la paziente a esteroscopia con eventuale biopsia o può essere fatta una valutazione ecografica più approfondita mediante sono isterografia a questo punto possiamo avere una lesione target e che quindi verrà trattata eventualmente anche mediante isteroscopia se non riscontriamo nessuna lesione quindi si la paziente verrà di nuovo verrà nuovamente identificata come AUB da causa endometriale ormonale e come ultimo step se anche con isteroscopia biopsia o sonisterografia non riusciamo a identificare nulla in casi selezionati si può considerare l'esecuzione di una risonanza magnetica nelle donne con fattori di rischio per cancro endometriale quindi vediamo che comunque il gold standard è la biopsia endometriale la biopsia può essere eseguita come dicevamo alla cieca o può essere eseguita mediante isteroscopia la scelta delle due procedure è sicuramente legata a quelle che sono le disponibilità anche del centro dove viene seguita la paziente e poi vedremo un po' più in dettaglio la differenza fra queste due procedure andando a dare andando a guardare quelle che sono le linee guida internazionali vediamo che ACOG appunto dopo la come indicazione in caso di sanguinamento uterino anomalo in donne in età riproduttiva come abbiamo detto l'anamnesi l'esame obiettivo generale ginecologico i testi laboratorio e come imaging riconosce l'ecografia transvaginale che l'ecografia transvaginale per patologie intra cavitarie ha una sensibilità del 56% e una specificità scusate del 73% con l'ecografia transvaginale è possibile valutare anche lo spessore endometriale fibromie ovaie lo spessore endometriale però in realtà nelle donne in età fertile non viene utilizzato come un indicatore per eseguire ulteriori approfondimenti se la donna ovviamente è una donna a basso rischio per cancro dell'endometrio anche l'accog riportano la zona isterografia come un esame che ci permette di avere una migliore accuratezza diagnostica per patologie intra cavitarie e soprattutto può distinguere tra lesioni focali e spessamenti diffusi dell'endometrio la risonanza magnetica come dicevamo è un esame di secondo livello da eseguire in casi selezionati l'accog essenzialmente riporta lo schema della figo e aggiunge però che la biopsia endometriale è sempre indicata in caso di donne con AUB di età superiore ai 45 anni quindi aggiunge il criterio dell'età come fattore di rischio quindi tutte le donne con AUB che presentano fattori di rischio per cancro endometriale o iperplasia tipica vanno indirizzate a biopsia tutte le donne di età superiore ai 45 anni vanno indirizzate a biopsia altrimenti si procede con lo schema sottoriportato l'abiopsia poi ovviamente indicata in caso di fallimento della terapia medica e in caso di AUB persistente come dicevamo prima l'abiopsia endometriale può essere eseguita alla cieca o mediante isteroscopia secondo le linee guida ACOG l'abiopsia alla cieca è la prima scelta mentre l'abiopsia esteroscopica viene lasciata per casi selezionati l'abiopsia alla cieca però risulta non molto accurata nel caso in cui il cancro occupi meno del 50% della cavità mentre l'abiopsia esteroscopica ha una sensibilità del 78-98% e una specificità del 92-95% per cancro dell'endometrio ovviamente questo la scelta anche tra biopsia la cieca e biopsia esteroscopica anche in questo caso è legata alle disponibilità del centro perché ovviamente un centro in cui non viene eseguita l'isteroscopia office sicuramente prediligerà l'esecuzione di una biopsia alla cieca piuttosto che mandare la paziente direttamente in sala operatoria per la biopsia per quanto riguarda le linee guida canadesi vediamo che sono sostanzialmente sovrapponibili alle linee guida dell'ACOG anche se in questo caso loro mettono anche in prima battuta all'isteroscopia la biopsia esteroscopica e anche loro hanno come criterio come fattore di rischio l'età addirittura abbassano l'età a 40 anni per cui secondo le linee guida canadesi vanno direttamente a biopsia endometriale oltre tutte le donne con fattori di rischio per cancro dell'endometrio anche tutte le donne che hanno più di 40 anni se andiamo invece a guardare le linee guida europee dell'EMAS non mettono l'età come un fattore di rischio indipendente che determina indicazioni a biopsia endometriale come comportarsi quindi in una donna in età fertile con AUB nel nostro istituto all'istituto bulogorofilo di Trieste abbiamo fatto questo studio uno studio retrospettivo in cui abbiamo confrontato i tre algoritmi diagnostici nel nostro centro non effettuiamo quasi mai biopsia alla cieca generalmente effettuiamo isteroscopia office quindi ovviamente l'algoritmo è leggermente modificato rispetto all'algoritmo originale per quanto riguarda soprattutto ACOG e abbiamo quindi valutato retrospettivamente 625 pazienti nelle quali sono stati riscontrati complessivamente 7 casi tra iperplasia tipica e adenocarcinoma vediamo che l'età più rappresentata nel nostro gruppo di pazienti era quella tra i 45 e i 49 anni a seguire 40-44 anni le donne sopra i 50 anni erano circa il 23% e il gruppo meno rappresentato era quello delle donne inferiore di età inferiore ai 40 anni cosa è emerso da questo studio che con l'algoritmo EMAS quindi quello che non teneva in considerazione l'età le procedure valutate come appropriate erano molte meno rispetto a quelle risultate appropriate secondo ACOG o addirittura secondo le linee qui da canadesi nessun caso di iperplasia tipica né di neoplasia è stato perso con l'algoritmo EMAS questo ovviamente è una cosa fondamentale per cui abbiamo concluso dicendo che non utilizzare l'età come criterio di invio a biopsia endometriale permette di evitare tra il 14 e il 20 per cento delle biopsie endometriali circa e quindi andiamo a ridurre le procedure non necessarie questo ovviamente crea un minor disagio per la paziente riduce il rischio di avere delle complicanze che con l'isteroscopia per quanto basse ovviamente non sono zero abbiamo circa un 8 per cento di tasso di complicanze e nel nostro caso italiano in cui il sistema sanitario diciamo copre gran parte della spesa ridurre le procedure vuol dire anche ridurre i costi e poter quindi poi avere fondi per altre cose per quanto riguarda invece l'Aubi in donne in meno pausa vediamo che qui c'è meno confusione sono tutti assolutamente più concordi ormai tramite valutazione ecografica si valuta lo spessore endometriale ed è stato definito come cut off 4 mm in una spessore endometriale inferiore a 4 mm con una regolarità della rima endometriale in caso di singolo episodio di sanguinamento uterino anomalo consente un atteggiamento di attesa se invece la donna sanguina nuovamente ovviamente a questo punto è indicata una valutazione endometriale in caso di spessore endometriale inferiore a 4 mm ma con una rima endometriale non così regolare si può considerare di eseguire la biopsia endometriale che può essere eseguita sia alla cieca che eventualmente mediante stereoscopia soprattutto nel caso in cui la biopsia non sia efficace non non ci dia adeguato in caso di spessore endometriale superiore a 4 mm è indicata sicuramente la biopsia possiamo valutare se fare una biopsia alla cieca nel caso in cui non si riscontri una lesione focale quindi ci sia un spessimento diffuso mentre in caso di lesione focale è indicata l'isteroscopia a seconda poi della diagnosi ovviamente che deriva dal diagnosi istologico la paziente verrà poi indirizzata al corretto iter terapeutico per quanto riguarda ACOG anche loro riportano il cutoff dei 4 mm con un valore predittivo negativo del 99% e anche in questo caso indicano come primo approccio la biopsia alla cieca mentre la biopsia esteroscopica solo in casi selezionati il riscontro casuale di un endometrio superiore 4 mm in donne in post meno pausa che non hanno avuto episodi di singuinamento non deve portare per forza determinare per forza a una valutazione endometriale e quindi importante in questo caso individualizzare l'interdiagnostico a seconda della presenza di fattori di rischio questo sempre per ridurre le procedure non necessarie abbiamo poi infine una categoria a parte che sono le donne in terapia con tamoxifene tamoxifene è un inibitore competitivo degli estrogeni che ha un'azione sia antagonista che agonista a seconda delle sedi nel 50% delle donne in pre-menopausa che fanno terapia con tamoxifene si ha un sanguinamento uterino anomalo e nel 25% delle donne in menopausa in caso di sanguinamento uterino anomalo in donne con tamoxifene questo deve essere valutato ed è quindi indicata una biopsia endometriale e ovviamente le donne con tamoxifene fanno sappiamo controlli periodici e nel caso in cui ci sia un spessimento endometriale in donna asintomatica ovviamente anche in questo caso va valutato caso per caso la possibilità e l'opportunità di eseguire una valutazione endometriale quindi concludendo di fronte a una paziente con sanguinamento uterino anomalo è fondamentale innanzitutto raccogliere una curata anamnesi per poter indirizzare il nostro iter diagnostico e che va poi differenziato a seconda dell'età della paziente dei fattori di rischio presenti dell'eventuale risposta a trattamenti medici e diversificato anche in base a quello che ci dice ci dice l'imaging grazie dell'attenzione molte grazie Chiara anche io ho delle domande per te che mi riservo di fare alla fine del nostro incontro e quindi adesso invito Valentina Chiappa a parlarci dell'inquadramento ecografico sappiamo che Valentina è una grande esperta di ecografia e siamo tutti interessati a capire come inquadrare dal punto di vista ecografico le donne con sanguinio mituterino anomalo nelle varie fasce di età prego Valentina grazie professore ringrazio per il gradito invito e condivido il mio schermo perfetto allora io lavoro in istituto nazionale tumori mi occupo prevalentemente di ecografia comunque di diagnostica in ambito oncologico e preventivo non ho particolari conflitti di interessi da dichiarare e insieme oggi andremo a valutare qual è il ruolo dell'ecografia nella paziente con sanguinamento uterino anomalo vedremo come descrivere l'utero quali sono i reperti che ci troveremo davanti e qual è il loro aspetto ecografico più frequente e come andremo a descriverli per iniziare vi presento una cosa nuova vi presento la posizione espressa in merito all'ecografia nelle donne con sanguinamento uterino anomalo nelle nuove linee guida uscite quest'anno che abbiamo promosso come società italiana di ecografia in osservice ginecologia e che sono state approvate dal centro nazionale per l'eccellenza clinica dell'istituto superiore di sanità nelle donne con sanguinamento uterino anomalo ci siamo chiesti l'ecografia può migliorare gli esiti importanti della donna e la valutazione della letteratura senza neanche bisogno di andare a valutare gli studi primari ma solo dalla valutazione delle linee guida già presenti in letteratura ci ha risposto che sì l'ecografia eseguita in donne con sanguinamento uterino anomalo indipendentemente dall'età e dallo status meno pausale è in grado di migliorare gli esiti importanti della donna ci consente una diagnosi differenziale ci consente di identificare quali sono le pazienti ad alto rischio di sviluppare un carcinoma endometriale e contribuisce ad impostare il corretto management della paziente la raccomandazione addirittura è positiva forte quindi assolutamente l'ecografia deve essere il nostro dopo l'anamnesi e la valutazione clinica il nostro primo approccio alla paziente l'ecografia potrà fermare quello che come abbiamo visto nella relazione della dottoressa Belcaro quello che sono le successive eventuali indagini invasive l'ecografia può essere la base su cui riteniamo necessaria per meglio caratterizzare una lesione focale diffusa endocavitaria l'esecuzione di una sono isterografia a cui può seguire una diagnostica invasiva per acquisire un'istologia o l'ecografia può già andare a indicare la necessità di acquisire un esame istologico il punto di partenza è per poter capire cosa c'è nella cavità dobbiamo essere in grado di valutare e descrivere correttamente l'utero sia in termini di endometrio che in termini di miometrio probabilmente tutti o molti di voi conoscono già la terminologia IETA terminologia elaborata dall'International Endometrial Tumor Analysis che è un gruppo di ecografisti esperti ormai mondiale nato come prevalentemente europeo che ha ormai oltre dieci anni fa ha definito un consensus statement con il riassunto di quella che è la modalità di esecuzione dell'ecografia per lo studio della cavità endometriale la descrizione dei reperti normali e anormali che andremo a rilevare all'ecografia la cosa importante che dobbiamo avere ben chiaro in testa è che la descrizione dell'endometrio in ecografia non è solo quantitativa ormai è riduttivo pensare di arrivare a un sospetto diagnosico di aver fatto un buon esame se andiamo semplicemente a misurare lo spessore dell'endometrio è molto importante essere in grado di andare oltre e quindi dare anche quella che è una descrizione qualitativa dei reperti endometriali innanzitutto come facciamo l'ecografia ovviamente per lo studio uterino la metodica di prima scelta laddove è possibile l'ecografia transvaginale completata eventualmente da un approccio transaddominale in caso di uteri di grandi dimensioni per la presenza di fibromi o altre lesioni preferiamo un approccio transaddominale anche se io personalmente preferisco un approccio transrettale per lo studio dell'endometrio per ridurre la distanza tra la sonda e la rima endometriale nelle pazienti virgo o nelle pazienti con stenosi vaginale di altra natura ad esempio dopo un trattamento radiante sulla pelvi quando eseguiamo l'ecografia in post-menopausa in pazienti che non fanno terapia ormonale sostitutiva potremmo fare in qualunque momento ovviamente la valutazione ecografica nelle donne in età fertile preferiamo la fase proliferativa precoce quindi tra il quarto e sesto giorno del ciclo nelle donne in post-menopausa in terapia ormonale sostitutiva sequenziale ciclica andremo a preferire dieci giorni dopo l'ultima compressa di progestinico come eseguiamo l'ecografia cerchiamo di ottenere per quanto possibile un angolo di insonazione tra la sonda e l'asse maggiore del viscero uterino che si avvicina a quanto più ai 90 gradi andremo a identificare la vescica e la cervice che ci consentiranno di definire la versione dell'utero prenderemo le misure del viscero uterino nei tre diametri quindi longitudinale antero-posteriore e latero-laterale e andremo a effettuare una scansione completa dell'utero in sezione longitudinale da un corno uterino al controlaterale ruoteremo poi la sonda di 90 gradi e in sezione latero-laterale andremo a scorrere l'utero dalla cervice al fondo in modo da avere una valutazione di tutta quella che è la cavità endometriale ricordiamoci che entrare vedere bene l'endometrio senza fare questa scansione completa può consentirci di perdere delle lesioni dei piccoli fibromi o dei polipi a livello degli angoli tubarici se non andiamo a scansionare tutta la cavità possono andare persi ancora vediamo in questo modo andando a effettuare una scansione come vedete identifichiamo la cervice possiamo andare a studiare anche il canale cervicale in questo caso c'è un po' di presenza di muco che ci consente di valutare bene anche il canale e poi andremo a valutare da un corno uterino all'altro tutta la cavità endometriale ruotiamo di 90 gradi facciamo lo stesso in sezione latero-laterale questa è poi la sezione dove andremo a misurare lo spessore endometriale in caso di presenza di fluido o spontaneo in cavità o perché abbiamo eseguito una sonovisterografia ricordiamoci che lo spessore che andremo a misurare è dei due layer separatamente evitando la falda di liquido altrimenti andremo a scegliere andremo ad effettuare la misura dello spessore endometriale in una sezione dove l'endometrio è ben visibile prevalentemente nel terzo superiore della cavità abbiamo misurato il nostro endometrio adesso è il momento come dicevamo di spingerci un pochino oltre quindi di effettuare quella che è una valutazione qualitativa dei nostri reperti endometriali che cosa andremo a definire andremo a definire le caratteristiche della midline ovvero dell'interfaccia tra i due indire endometriali andremo a definire l'ecogenicità del miometrio la visibilità e le caratteristiche della giunzione endometrio-miometriale la presenza spontanea di fluido endocavitario e poi effettueremo la valutazione con il color doppler per quanto riguarda la midline può essere lineare non lineare irregolare o non definita generalmente in caso di patologie disfunzionali endometrio-asincrono o pazienti con perde tematiche atipiche in cui non vediamo delle lesioni endocavitarie la midline è preferibilmente lineare oppure non lineare in caso ad esempio gli endometriopolipoide in caso di patologie più gravi in caso di tumore la midline può essere irregolare o più frequentemente è non definita noi vediamo del tessuto a livello endocavitario ma non riusciamo a riconoscere una struttura dell'endometrio così come siamo abituati a identificarla un reperto che ci aiuta molto nel sospetto diagnostico di polipo endometriale è quello che viene definito come bright edge il bright edge è quella sottile linea iperecogena che si disegna intorno al polipo intorno alla lesione focale ovalare generalmente iperecogena e è determinata dall'eco che si forma all'interfaccia tra la lesione e il restante endometrio per quanto riguarda l'ecogenicità dell'endometrio l'endometrio si confronta per definire se è iso iperecogeno o ipoecogeno con il normale miometrio visibile della paziente quindi identificheremo un pattern a tre strati proliferativo un endometrio uniforme che altrimenti può essere isoecogeno iperecogeno ipoecogeno a seconda delle diverse fasi del ciclo l'endometrio può essere però anche può avere un'ecogenicità non uniforme e in questo caso potremo identificare la presenza di aree cistiche o spazi anecogeni iperecogeni regolari o irregolari come in questo caso può essere un caso di perplasia endometriale l'aggiunzione endometrio miometriale è l'interfaccia che andremo a identificare tra l'endometrio e il miometrio può essere regolare irregolare generalmente in caso di adenomiosi o di neoplasie può essere interrotta per la presenza per esempio di un fibromo che ha una componente miometriale una componente endocavitaria o nel caso di tumori quando abbiamo un fronte di infiltrazione miometriale o spesso è non definita quando non riusciamo a riconoscerla correttamente in caso di patologia per effettuare la valutazione doppler fondamentale prima un buon settaggio della PRF che deve essere mediamente 0,6 o comunque compresa tra 0,3 e 0,9 anche qui andremo a effettuare una valutazione quantitativa e poi cercheremo di descrivere i reperti qualitativi da un punto di vista quantitativo si utilizza il color score proposto prima dal gruppo Iota per la descrizione delle masse anestiali e poi adottato anche dal gruppo Ieta per la descrizione dei reperti endometriali il color score è una valutazione soggettiva semi quantitativa che si basa sulla valutazione di quanti pixel colorati ho nel contesto della lesione dal mio campo di interesse un color score di 1 è un'assenza totale di vascularizzazione un color score di 4 è una vascularizzazione molto rappresentata un color score di 2 3 è una valutazione intermedia quindi 2 se ho giusto pochi spot di colore 3 quando ho una vascularizzazione moderata descritto il color score in presenza di lesione è possibile e molto utile andare a identificare quello che è il pattern vascolare della lesione per esempio il pattern vascolare del polipo in genere è la presenza del vaso che le nutre quindi del feeding vessel e andremo ad escrivere se vediamo il feeding vessel perché questo aiuta noi e chi leggerà l'ecografia dopo di noi a interpretare quello che è un po' il nostro sospetto diagnostico è importante andare a includere nel nostro box colore l'endometrio e l'eventuale lesione che stiamo valutando ma anche il miometrio circostante perché andremo a vedere l'eventuale presenza di vasi tipici o atipici a cavallo fra il miometrio e l'endometrio questo è quello che vi ho già detto sul cos'è il color score e cosa significano i 4 gradi di colore per quanto riguarda i pattern vascolari abbiamo il pattern con un singolo vaso dominante con o senza branching quindi con o senza ramificazioni in genere tipici del polipo semplice del polipo un po' più grande o del polipo cancerizzato la presenza di scattered vessel quindi vasi sparsi nel contesto dell'endometrio che possiamo ritrovare sia in patologie benigne che maligne multipli vasi di origine multifocale invece che suggeriscono un qualcosa di più rispetto a un endometrio normale quindi spesso li ritroviamo nelle patologie maligne o pre maligne il ring stein è la vascularizzazione circolare della capsula di un fibroma con componente sottomucosa endocavitaria effettuata la valutazione di base ecografica con scala di grigi possiamo avere la necessità di meglio caratterizzare eventuali lesioni o reperti endocavitari che non ci convincono andremo quindi a effettuare una sonoisterografia la sonoisterografia se l'operatore ovviamente è in grado può essere eseguita subito in coda all'ecografia si inserisce all'interno della cavità un cateterino endocavitario e andremo ad instillare della soluzione fisiologica che funge da mezzo di contrasto e ci consente di andare a caratterizzare meglio quello che vediamo qui nella prima immagine vediamo il cateterino posizionato e nella seconda immagine andremo a vedere vediamo come si disegna un polipo endometriale e andremo a descrivere sia la lesione sia l'endometrio circostante il fluido in cavità quando lo mettiamo noi ovviamente è soluzione fisiologica e quindi è anecogeno in questo caso non è necessario descriverlo descriverne le caratteristiche quantitative a volte non abbiamo bisogno di effettuare una sonisterografia perché è già presente del fluido in cavità il fluido che in modo fisiologico o parafisiologico è già presente in cavità in genere è anecogeno o ipoicogeno per la presenza di muco può avere un'ecogenicità di tipo ground glass in caso di ematometra o un'ecogenicità mista all'ull level con delle aree un pochino più dense iperecogene in caso di piometra non è necessario quando facciamo noi la sonisterografia andare a misurare quanto fluido abbiamo messo in cavità quindi andremo a misurare solo i layer endometriali che si disegnano non il fluido quando è presente un fluido spontaneamente soprattutto se non un fluido anecogeno può essere utile andare a valutare quanto fluido c'è anche per avere un'idea della potenziale perdita ematica della paziente se andremo a effettuare delle manovre invasive in caso di ematometra cosa ci consente di fare la presenza di fluido non ci consente solo di andare a misurare i layer endometriali che prima vedevamo meno bene come distinti l'uno dall'altro ma ci consente anche di apprezzare la qualità di questi layer endometriali che potranno essere lisci potranno avere un aspetto a tasche endometriali o polipoide in caso di endometri disfunzionali o perplastici potranno avere un'ecogeneicità più irregolare in caso sempre di iperplasia o già di neoplasia in caso di presenza di lesione endocavitaria anche qui possiamo non solo limitarci a dire ma forse c'è un polipo di un centimetro possiamo andare oltre e possiamo spingerci a definire da dove da dove origina la lesione una lesione endocavitaria o una lesione probabilmente a origine miometriale con una componente endocavitaria è una lesione diffusa o localizzata laddove localizzata è una lesione che mi coinvolge meno del 25% della cavità diffusa più del 25% ed è una lesione sessile quindi a larga base di impianto o peduncolata andiamo a vedere più nello specifico quali sono gli aspetti ecografici dei reperti endometriali che possiamo avere della classificazione di cui ci ha parlato prima Chiara ovviamente ci concentreremo sull'entità strutturali quelle quindi che possono essere misurate o valutate con tecniche di imaging partiamo da qui da un lavoro estremamente recente del gruppo IETA che ha valutato i reperti endometriali le caratteristiche ecografiche tipiche delle lesioni endometriali in donne con AUB hanno valutato ecograficamente 2856 donne di cui 1857 hanno ricevuto anche una sonoisterografia e hanno avuto oltre e in oltre 2200 pazienti è stato effettuato anche un prelievo peristologico due terzi delle pazienti erano in postmenopausa un terzo in premenopausa e un quarto delle pazienti stava assumendo una terapia ormonale indipendentemente se in età fertile o sostitutiva come vediamo un terzo delle pazienti non aveva una lesione focale o comunque patologica della cavità avevano atrofia endometriale o un endometrio disfunzionale un terzo delle pazienti ricevuto la diagnosi di polipo il 6% delle pazienti di malignità quali sono stati i reperti ecografici considerati rassicuranti un endometrio sottile indipendentemente dall'età della paziente come ci ha detto Chiara sotto i 4 mm in postmenopausa essenzialmente siamo tranquilli e qui hanno identificato i 3 mm come cut off di serenità per quanto riguarda gli aspetti qualitativi quindi abbiamo visto il quantitativo 3 mm qualitativi quando descrivevamo un pattern endometriale tri layer quindi uniforme di aspetto proliferativo potevamo essere tranquilli quando la midline endometriale era visibile lineare anche per quanto riguarda la vascularizzazione era rassicurante la presenza di un vaso singolo senza ramificazioni perché al massimo la paziente aveva un polipo benino nessuna delle pazienti dove sono stati descritti questi reperti aveva un iperplasia tipico un tumore per quanto riguarda le altre lesioni che caratteristiche avevano le donne con atrofia endometriale avevano uno spessore endometriale tra i 3 e i 7 mm due terzi delle pazienti aveva un endometrio descritto come uniforme iperecogeno o non uniforme ma senza cisti la midline era indefinita non per la presenza di lesioni ma perché è troppo sottile l'endometrio per poter andare a identificare la midline l'endometrio junction era generalmente visibile regolare e nella grande maggioranza dei casi non c'era vascularizzazione in caso di endometrio disfunzionale proliferativo o secretivo lo spessore tra i 6 e i 13 mm due terzi delle pazienti avevano un endometrio descritto come uniforme iperecogeno o non uniforme senza cisti la midline in un terzo delle pazienti era visibile lineare questo abbiamo visto essere un elemento rassicurante l'endometrio junction era visibile in metà delle pazienti regolare e in metà delle pazienti non c'era vascularizzazione nelle pazienti con iperplasia semplice i reperti erano sostanzialmente sovrapponibili a quelli dell'endometrio disfunzionale se non per uno spessore mediamente un po' aumentato tra i 9 e i 17 millimetri la vascularizzazione molto spesso invece per quanto riguarda il pattern mostrava un'origine multiplivasi con origine multifocale nel caso di polipi l'endometrio era spesso tra gli 8 e i 14 millimetri in questi casi aiutava molto riconoscere e è stato riconosciuto nella metà dei casi il bright edge quindi quella sottile linea iperecogena all'interfaccia tra la lesione e l'endometrio e anche qui il pattern vascolare aiutava molto perché in due terzi dei casi si vedeva il feeding vessel con o senza ramificazioni nel caso dei miomi l'endometrio complessivamente non mostrava particolari reperti anzi era tendenzialmente abbastanza sottile tra i 5 e i 13 millimetri qui la vascularizzazione poteva essere aumentata anche 4 di color score ma il pattern vascolare anche qui ci poteva orientare perché nella metà delle pazienti è stata riconosciuta la vascularizzazione circolare dei miomi in caso di iperplasia tipica e di tumore l'endometrio era più spesso 8-18 millimetri nell'iperplasia tipica 11-26 millimetri nel tumore e qui l'endometrio era prevalentemente non uniforme e la vascularizzazione più rappresentata con multipli vasi a origine multifocale o vascularizzazione scattered quindi dispersa nella cavità spot vascolari dispersi nella cavità se consideriamo però quello che molto spesso viene fatto e quindi solo la valutazione quantitativa vedete come molte classi delle patologie anche molto diverse che abbiamo visto tendono a sovrapporsi quindi non è più tempo solo per misurare lo spessore in caso di sono isterografia come apparivano le lesioni polipi generalmente peduncolati più raramente sessili nel caso dei miomi in genere hanno ritrovato miomi di piccole dimensioni massimo due centimetri nei tumori nel 50% dei casi veniva identificata una lesione estesa invece nell'altra metà identificavano come un polipo cancerizzato abbiamo già visto che i polipi sono responsabili di un terzo delle perdite ematiche atipiche come appaiono i polipi in ecografia vi faccio vedere alcuni esempi questa è una review del gruppo del professor Vercellini di alcuni anni fa hanno visto che la prevalenza dei polipi maligni nei 51 studi analizzati che valutavano oltre 35.000 pazienti era di 2 73% quindi polipo e tumore sono due cose completamente diverse aumenta un pochino questa prevalenza nelle donne in post meno pausa ma è estremamente importante quando andremo a gestire il polipo una buona anamnesi sintomatologica perché la situazione cambia molto tra la donna sintomatica con sanguinamento come abbiamo visto e la donna asintomatica e anche qui cambia molto o comunque abbastanza tra la donna in età fertile e la donna in post meno pausa quando andiamo a descrivere un polipo dobbiamo descrivere tante cose dobbiamo descrivere intanto se è un polipo unico o se è tutto un endometrio polipoide perché il sospetto diagnostico cambia se è un polipo sessile o poi dunque lato che può essere di aiuto all'isteroscopista che poi andrà a effettuare la procedura andremo a misurare i diametri del polipo tra i diametri l'ecogenicità del polipo confrontata rispetto al restante endometrio se vediamo il feeding vessel se vediamo il bright edge e andremo poi a definire com'è il circostante endometrio il polipo si studia molto bene con la sonoisterografia si disegna per cui in questo caso andremo a definire considerate che io tengo la vescica a sinistra quindi questo è un utero retroverso definiremo una lesione ovalare a emergenza dalla parete posteriore terzo medio superiore di 11 x 6 x 11 mm peduncolata il restante endometrio è atrofico a ecogenicità uniforme e andremo a misurare i layer in questo caso non si vedeva il feeding vessel se vogliamo aiutarci anche la ricostruzione tridimensionale ci consente di identificare di contrastare molto bene il nostro polipo se non abbiamo a disposizione la sonoisterografia generalmente se sentiamo bene l'ecografo il bright edge è visibile e il sospetto diagnostico è forte qui si vede molto bene anche qui la descriveremo come una formazione uniforme per ecogeno ovalare a livello del terzo medio di millimetri metteremo i tre diametri il restante endometrio è iperecogeno omogeneo la midline è visibile a livello del terzo superiore e poi si interrompe in corrispondenza della lesione dove identifichiamo invece il bright edge la vascularizzazione in questo caso era ben visibile si vede il feeding vessel con ramificazioni ancora anche in questo caso come vedete anche senza sono isterografia il polipo è molto ben visibile così come il feeding vessel e la midline restante endometrio è visualizzata si interrompe in corrispondenza del polipo e vediamo il bright edge anche qui la ricostruzione 3D ci consente di vedere bene da dove emerge il polipo senza fare la sono isterografia in questo caso vediamo un altro caso con sono isterografia anche qua vedete un polipo peduncolato a emergenza che appare fundica il feeding vessel in questo caso visibile apparentemente singolo senza ramificazioni e la ricostruzione tridimensionale del nostro polipo altri esempi in sono isterografia iperplasia e tumore ha già introdotto Chiara che si tratta di un tumore con un'incidenza prevalenza in aumento perché aumenta la sindrome metabolica aumenta l'età media della popolazione e quindi è un tumore con cui molti di noi si trovano a fare i conti anche in ambulatorio quando arriva la paziente soprattutto obesa ipertesa in menopausa che ci riferisce da qualche mese delle perdite nematiche cosa vediamo iniziamo a vedere qualche caso questo è un caso di iperplasia come vediamo qui la midline è visibile però in alcuni punti un pochino irregolare l'endometrio è non uniforme ci sono degli spazzicistici prevalentemente regolari è un endometrio ispessito per una donna in pre-menopausa che per una donna sudata in post-menopausa che aveva anche una idrosalpinge anche questo è un quadro di iperplasia questa era una donna invece in pre-menopausa un endometrio francamente ispessito di aspetto non uniforme da un punto di vista qualitativo con la presenza di spazzicistici regolari o irregolari questa era un'iperplasia atipica ci possiamo aiutare anche con il 3D che ci consente di andare a studiare bene la midline scusate la endometrial junction qui la midline non era visualizzabile la giunzione è importante da valutare in questi pazienti perché anche senza un esame istologico però se vediamo una franca infiltrazione miometriale o cervicale ovviamente il sospetto diagnostico diventa significativo per neoplasia parliamo di tumore come appare il tumore all'ecografia e che cosa dobbiamo andare a vedere questo vediamo un pochino lo stato dell'arte nell'immediato passato adesso e quali sono le prospettive future partiamo da questo lavoro molto importante del gruppo IETA del 2018 che ci ha aiutato a definire quelle che sono le caratteristiche del tumore noi sappiamo che il goal della diagnosi è andare a identificare prima quelli che sono i tumori endometriali high risk quali sono questi pazienti sostanzialmente sono i tumori di grado 3 sono i tumori non endometriosi quindi tumori sierose cellule chiare indifferenziati carcinosarcomi e nei tumori endometrioidi non grado 3 andare a identificare le pazienti con un coinvolgimento cervicale come etastasi annessiali o linfonodali nello studio IETA sono state coinvolte sono state studiate 1714 donne con tumore dell'endometrio la stragrande maggioranza dei casi erano donne in post meno pausa un'età media di 65 anni come vedete 30 come BMI che può essere 30 come BMI mediana del BMI per cui molto spesso sono donne che è anche abbastanza difficile studiare bene ecograficamente guardate come ritornano le nostre peritematiche atipiche responsabili dell'84 cioè presenti nell'84% delle pazienti quindi campanello d'allarme importantissimo cosa si è visto sono diversi i low risk dai high risk sostanzialmente o molto spesso sì come vediamo sono diversi sia da un punto di vista quantitativo che da un punto di vista qualitativo da un punto di vista quantitativo nei low risk quindi endometrioidi grado 1-2 confinati all'endometrio lo spessore medio dell'endometrio era 13 mm contro i 28 degli high risk questo è vero tranne che per i sierosi che invece sappiamo molto spesso insorgere su endometrio atrofico l'aggiunzione era visibile regolare in un terzo dei casi dei low risk ma in pochissime pazienti degli high risk l'ecogenicità era molto spesso non uniforme in entrambe le categorie vascularizzazione aumentata in entrambe le categorie che cosa dobbiamo come possiamo identificare gli alti rischi dai non in questo caso nel primo nel primi clip abbiamo la valutazione in scala di grigie col doppler di un tumore low risk come vediamo l'ecogenicità può essere definita come uniformi per ecogenicità non uniforme ma con scarsissime cisti regolari il doppler mostra una vascularizzazione che definirei come color score dell'endometrio solo senza guardare tutti i vasi miometriali due con alcuni vasi con un pattern di vasi multipli a origine multifocale però guardate la differenza con questo tumore che ha sicuramente un color score di 4 anche lui con vasi multipli a origine multifocale l'endometrio è francamente più spesso è un endometrio eterogeneo in questi casi è molto importante andare a valutare anche la presenza dell'aggiunzione endometriale l'infiltrazione del miometrio e dello stroma cervicale infiltrazione miometriale in questo caso superiore qui a livello ismico e sovraismico superiore al 50% in questo caso abbiamo anche un'infiltrazione della cervice in questo caso invece a destra non abbiamo infiltrazione della cervice si vede molto bene che la neoplasia si ferma al di sopra dell'orifizio uterino interno e anche l'infiltrazione miometriale sebbene l'aggiunzione endometrio miometriale sia irregolare perché la vediamo frastagliata è inferiore al 50% ricordiamoci di andare a valutare sempre gli annessi delle nostre pazienti scusate in questo caso a destra c'era molto ben visibile un secondarismo varico quindi una formazione multiloculare solida contenuto ground glass con una componente solida vascularizzata color score 4 e se l'habitus della paziente lo permette anche di andare a valutare la presenza di adenopatie lungo gli assili ascelombortici ricordiamoci che noi spesso siamo il primo filtro che la paziente incontra e già raccogliere la presenza di adenopatie ovviamente è un dato importante visto che poi la paziente dovrà programmare un'immagine di secondo livello e potrebbe volerci tempo quindi tutto quello che riusciamo a vedere noi è sicuramente utile in cosa possiamo incappare molto spesso l'utero può essere in asse e quindi usiamo la mano libera per cercare di modificare la versione uterina se è possibile possiamo anche provare a cambiare approccio transaddominale o transrettale per cercare di spingere l'utero e modificare la versione uterina possiamo sovrasottostimare l'infiltrazione miometriale possiamo sovrastimarla in caso di tumori grandi polipoidi che tendono a comprimere a riempire la cavità comprimendo il miometrio possiamo sottostimarlo nei casi come il melt pattern dove l'infiltrazione non è un fronte di infiltrazione unico ma è un'infiltrazione a ghiandole separate fino alla sierosi cosa a che punto siamo oggi oggi stiamo cercando di identificare abbiamo pubblicato insieme al gruppo del gemelli questo lavoro pochi mesi fa stiamo cercando di identificare gli alti e bassi rischi utilizzando non più solo l'esperienza dell'operatore ma la radiomica in modo da avere un approccio standardizzato la radiomica è un software che va a leggere le caratteristiche del tessuto in modo autonomo senza che indipendente dall'esperienza appunto dell'operatore il futuro quale sarà il futuro sarà identificare non più gli alti e bassi rischi in base alle caratteristiche istopatologiche ma andare a identificare quattro classi di rischio attraverso l'identificazione di target molecolari che sappiamo avere un'importanza prognostica della paziente quindi dovremo lavorare un po' per identificare non solo endometrioidi o non endometrioidi endometrioidi gradi 3 ma stratificare un pochino di più la nostra valutazione ora rapidamente vediamo quelle che sono le caratteristiche ecografiche delle altre cause di sanguinamento uterino anomalo la dottoressa Belcaro ci ha già parlato dell'adenomiosi di quelle che sono le caratteristiche ecografiche dell'adenomiosi definite dal consensus statement del gruppo Musa vediamole un pochino dal vivo come vediamo molto spesso le pareti uterine sono asimmetriche una delle due pareti in questo caso la posteriore è predominante ci sembra un po' un fibroma ma non riusciamo a identificare una capsula vera e propria ci sono delle aree cistiche nel contesto miometriale e anche degli spazi iperecogeni vediamo la presenza di fan-shaped shadow ovvero di coni d'ombra un po' raggera e una vascularizzazione translesionale un altro caso anche qui pareti asimmetriche presenza di aree cistiche e spazi iperecogeni e fan-shaped shadows ancora pareti asimmetriche aree cistiche spazi per ecogeni fan-shaped shadows e vascularizzazione intralesionale senza che sia riconoscibile una capsula tipo fibroma per quanto riguarda i miomi miomi come abbiamo visto hanno un sistema classificativo ormai riconosciuto in tre step all'ecografia un primo step il mioma c'è o non c'è se c'è è sottomucoso oppure no e un terzo step che va a stratificare i miomi dal grado 0 al grado 8 a seconda grado 0,1,2 della componente endocavitaria se presente e gli altri a scalare intramurale con componente sottosierosa prevalentemente sottosieroso peduncolato o mioma parassita mioma cervicale vi faccio vedere come appare il mioma endocavitario sottomucoso come vediamo qui abbiamo una cavità che a un certo punto si interrompe per questa lesione solida ovalare con la presenza di shadows ma più in alto ne vediamo un'altra piccolina in questi casi il 3D ci può aiutare perché vediamo che il mioma piccolino è un mioma G0 quindi completamente endocavitario mentre il mioma più grande che alla scala di grigi ci sembrava endocavitario in realtà è un G1 perché è un mioma sottomucoso che protrude all'interno della cavità per più del 50% e con questo concludo vi ringrazio bene se ci sono domande da parte dei partecipanti fatele pure alzando la mano oppure scrivendole nella chat c'è una domanda Federica non hai fatto tu una domanda? io leggo nella chat che significato si scusi prof ti volevo aspettare prima se c'erano altre domande volevo chiedere che significato può avere la visualizzazione di una cavità endometrale dilatata quindi con un film anecogeno in una presenza di polipo endometrale in una donna in menopausa ok quando abbiamo la presenza di fluido in post menopausa pensiamo che in primis la paziente potrebbe avere uno stop dell'outlet quindi potrebbe avere una stenosi cervicale per cui intanto andiamo a chiedere alla paziente se ha subito ad esempio 20 anni fa una diatermocoagulazione della cervice piuttosto che se ha fatto altri trattamenti sulla cervice a volte la stenosi è presente senza che la paziente abbia fatto alcun trattamento sulla cervice se il fluido è poco è un reperto parafisiologico se vediamo un polipo è importante valutare la qualità del fluido perché se non è anecogeno ma è ground glass può essere un ematometra e quindi qui il sospetto diagnostico ovviamente deve essere diverso è importante istruire la paziente sul fatto che il ragionamento che faccio io è vedo del fluido quindi la paziente ha un probabilmente una stenosi cervicale potrebbe venirmi a mancare in futuro quello che è il campanello dell'arme per cui lei potrebbe sanguinare a livello endocavitario e io non accorgermene per cui in questi casi discuto con la paziente e si può decidere di togliere direttamente il polipo oppure di fare all'inizio dei controlli un pochino più ravvicinati quindi magari anziché rivederla annualmente anche se il polipo mi sembra tranquillo la rivedo a sei mesi è importante però tanto spiegare alla paziente quale deve essere il campanello d'allarme ma in questi casi pensare che lei potrebbe non averlo grazie se non ci sono altre domande Valentina te ne faccio tre brevi anch'io poi ti lascio andare che so che hai dei problemi allora in linea diciamo in linea generale proprio in poche parole per noi clinici cioè tu che valore dai in tutta questa bellissimo inquadramento che tu hai fatto sull'impiego dell'ecografia che valore dai alla sonoisterografia perché fino a un po' di anni fa la sonoisterografia veniva vista come un breakthrough proprio nella diagnostica ecografica delle donne con sanguinamento anomalo è ancora così? non so non ho l'impressione che sia ancora così no è vero io parlo per la mia esperienza è un po' anche supportata da quello che c'è di recente in letteratura è sicuramente uno strumento utile quando abbiamo il sospetto di una lesione per disrimere se focale o diffusa ma secondo me il vero utilizzo della sonnoisterografia è nelle pazienti che hanno un riscontro occasionale di spessimento endometriale per esempio in corso di tamoxifene per evitare procedure inutili noi qui in istituto vediamo tantissime centinaia di pazienti in terapia con tamoxifene che spesso ci vengono inviate dai ginecologi curanti per sospetto polipo in realtà nella stragrande maggioranza dei casi la paziente non ha nessun tipo di lesione anzi un endometrio atrofico e ha un aspetto pseudocistico di quella che è la giunzione endometrio-miometriale in questi casi andiamo a evitare grazie alla sonnoisterografia tantissime procedure invasive quindi insomma tu in questo momento vedresti cioè per un buon ecografista che quindi ha capacità di identificare nella gran parte dei casi lesioni focali endocavitarie tu vedresti la sonnoisterografia come una metodica mirata specificamente a questa categoria di pazienti assolutamente non ho come una una metodica da introdurre in modo sistematico nella valutazione del sanguinamento uterino anoma insomma tanti colleghi mi mandano la paziente per ecografia di secondo livello sonnoisterografia per sospetto polipo ma poi io la sonnoisterografia non la faccio perché spiego alla paziente che la lesione è ben visibile anche senza comunque avere l'introduzione del cateterino in cavità la dilatazione meccanica col fluido è una cosa sopportabilissima però se non necessaria la evito alla paziente sinceramente invece quando nell'ecografia ovviamente di buon livello con scala di grigi non riesco a definire se è una lesione focale o diffusa se effettivamente la paziente in tamoxifene ha o non ha l'ispessimento completo l'esame con la sonnoisterografia però in casi selezionati cioè non la vedo come una metodica sempre sul argomento tamoxifene vedo adesso una domanda di Clara Baroni quando viene data indicazione a isteroscopie in pazienti con ispessimento endometriale da tomoxifene c'è un cutoff di spessore endometriale? allora il cutoff non esiste abbiamo fatto recentemente per un altro lavoro una revisione della letteratura troviamo di tutto troviamo dai 10 ai 11 ai 13 millimetri ma poi tutti i lavori concludono sul fatto che anche scegliendo un cutoff la percentuale di malignità è bassissima a fronte di un numero elevatissimo di procedure personalmente la donna in corso di tamoxifene merita un accertamento istologico dal mio punto di vista poi magari la dottoressa lazzeri ce lo spiega meglio quando sanguina sicuramente perché lì è molto probabile che soprattutto se in menopausa che ci sia una lesione quantomeno focale io non utilizzo cutoff se ho il dubbio di un endometrio con proliferazione abnorme in corso di tamoxifene ecco qui faccio l'isterosanografia valuto bene i layer endometriali se mi sembrano espessiti decido per un campionamento e anche lì se è un espessimento diffuso non mando la paziente a isteroscopia ma faccio la pipel direttamente in corso di esame se invece mi sembra di vedere una lesione focale che potrei non campionare mando la paziente a isteroscopia un'altra domanda sempre appunto tu hai parlato e ho molto apprezzato appunto hai accenato al problema dell'overtreatment specialmente sui polipi e noi ginecologi sappiamo che le due lesioni più soggette a overtreatment sono cisti ovariche e polipi uterini ci ritroviamo con delle liste di attesa impressionanti anche di donne da sottoporre a polipectomia allora la la domanda è questa ad esempio i mangiagalli noi abbiamo adottato sistematicamente lo scoriota per la valutazione delle masse annessiali questo aiuta chi deve selezionare anche le priorità a valutare meglio e a cercare di dare come posso dire una visione prospettica delle cose ciò che è più urgente ciò che è meno urgente insomma perché quando ci si trova di fronte specialmente con tutti questi problemi di restrizione covid adesso e riduzione di sedute ne abbiamo veramente centinaia se non migliaia se non quasi duemila pazienti in nota a questo punto è pensabile una sorta di scorietta non so per i polipi che possa fornirci uno strumento analogo a quello che abbiamo sulle masse snsiale per capire chi deve essere perché chi va chi dà le priorità molto frequentemente le pazienti non le vede cioè nel senso arrivano dagli ambulatori dagli studi e via dicendo ma uno si trova con una scheda di messa in nota e a parte che ovviamente non ci sia un sintomo di sanguinamento in postmenopausa ci mancherebbe ma la gran parte dei casi non è così allora diciamo che dal mio punto di vista da un punto di vista ecografico è bene come dicevamo valutare la lesione ma anche valutare l'endometrio circostante perché un polipo singolo subcentimetrico nel contesto di un endometrio omogeneo sincrono con la fase del ciclo se la donna è in premenopausa oppure se il restante endometrio è atrofico e abbiamo la lesioncina piccolina iperecogena nella donna in postmenopausa ovviamente è asintomatica dal nostro punto di vista si può aspettare e è verosimilmente una lesione focale altro discorso se io ho una lesione polipoide meglio rappresentata nel contesto di un endometrio complessivamente spessito disomogeneo quindi intanto il restante endometrio è molto importante da valutare forse più del polipo stesso ricordiamo poi che la prevalenza di polipi maligni è tra il 2 e il 4,5% tra popolazione generale in postmenopausa quindi è intanto bene non stressare la paziente che entro un mese deve fare l'isteroscopia se no morirà di cancro avrà metastasi perché arriva gente terrorizzata da questo poi se la paziente è una paziente compliante orientata perché soprattutto se in menopausa vedo un polipo la istruisco sul fatto che potrà sanguinare se sanguinerà mi ricontatterà prima del prossimo controllo e rivaluteremo la situazione però descrizione del polipo dell'endometrio circostante e della vascularizzazione sia del polipo che dell'endometrio circostante dal mio punto di vista Luca Gazzolari chiede è sempre necessaria la profilassa antibiotica dopo l'isterosonografia? io non la faccio mai disinfetto la cervice ovviamente non faccio la procedura se la paziente ha una vaginita in corso la rimando però io non faccio mai la profilassa antibiotica sistematica per istrosonografia no hai brevemente accennato all'adenomiosi in ambito di ginecologia benigna c'è un fiorire di possibili classificazioni di studi su associazioni con altre patologie con fibromi con endometriosi vi dicendo ma veramente c'è una forte spinta nella letteratura internazionale sull'adenomiosi ora tu hai fatto vedere delle immagini di adenomiosi come posso dire didattiche immagini di adenomiosi veramente molto chiara il problema è che qui anche dal punto di vista di un potenziale overtreatment non si parla ovviamente delle forme che hai fatto vedere tu che sono fuori discussione ma questo continuo classificare in sottogruppi sempre più definiti la subbasale la focale la diffusa la diffusa posteriore insomma la diffusa esterna interna la focale esterna interna cioè io a parte il fatto di rimanere un filo confuso perché l'adenomiosi per definizione è una malattia non dico che necessariamente sia sistemica in tutto il miometrio ma difficilmente è localizzata in un preciso punto quindi questa come facciano a classificare in questo modo così preciso tutte queste diverse forme non mi è chiaro ma io credo che e vorrei questa tu un'opinione su questo credo che più noi ci addentriamo in sottogruppi in sottopopolazioni più rischiamo di perdere una visione generale che è l'associazione col sanguinometto uterino anomalo in questo in questo nostro caso in donne in periodo riproduttivo perché l'adenomiosi in forme in forme limitate è un ecco dimmi tu l'adenomiosi in forme limitate quanto la incontri quanto è frequente è molto frequente raramente la segnalo come cosa patologica se non per la paziente che ha girato mille chiese senza avere nessun reperto se trovo un reperto che si discosta dalla normalità lo segnalo in genere ovviamente è giusto segnalare i quadri come quelli che ho fatto vedere io se la paziente è sintomatica la mando a un gruppo che non è il mio generalmente il vostro per presa in carico e nella paziente mi preme segnalare l'adenomiosi nella paziente che mi viene inviata in valutazione di secondo livello che ha ricevuto fuori un'indicazione chirurgica sbagliata perché a volte mi viene magari mandata per valutazione mioma in crescita per programmazione intervento presso un centro periferico e dicono attenzione non ha un mioma qui se ci mettono le mani da un punto di vista chirurgico è un casino per cui allora sì però andare io a segnalare l'adenomiosi focale per anche mettere la la spia nella paziente di una patologia chissà quanto quando è una cosa minimale focale assolutamente no non la segnalo neanche anche perché più limitata è la forma più aumenta la prevalenza più si riduce la robustezza dell'associazione con i sintomi questo è il problema allora non essendoci non essendoci altre domande Valentina noi ti lasciamo andare che sappiamo che appunto hai impegni subito dopo ti ringraziamo tantissimo come sempre le tue presentazioni sono eccellenti sia dal punto di vista discorsivo che dal punto di vista dell'eccezionale imaging che ci offri che è estremamente didattico per tutti noi grazie molto Valentina grazie professore buona e a questo punto invito la nostra ultima relatrice Lucia Lazzari da Siena che ha il compito appunto di illustrarci allora come gestire queste pazienti prego Lucia grazie intanto di essere intervenuta prego buongiorno a tutti innanzitutto vi ringrazio ringrazio il prof e gli organizzatori dell'inviso ringrazio soprattutto Agnese in cui mi sono introdotta nel suo profilo per appunto presentare anche la Federica e ringrazio soprattutto le mie due colleghe precedenti che mi hanno notevolmente facilitato tutto quello che è adesso l'approccio per quello che è il trattamento del sanguinamento uterino anomalo in base alle diverse fasce di età quindi grazie a un inquadramento diagnostico favoloso della collega Valentina e soprattutto anche di un inquadramento clinico della collega Chiara sappiamo come la prevalenza del sanguinamento uterino anomalo nella donna in età fertile rappresenti una causa importante di accesso al ginecologo quindi ai nostri ambulatori di riferimento e come anche nella paziente adolescente rappresenti sicuramente una delle cause di accesso ai nostri ambulatori dell'adolescenza e della pediatria sicuramente per quello che riguarda la classificazione abbiamo una standardizzazione di quelli che sono le cause di sanguinamento uterino anomalo sia dal punto di vista organico che dal punto di vista di presenza proprio di patologia all'interno dell'utero stesso che sono stati pubblicati nel 2011 e revisionati nel 2018 e che ci permettono di inquadrare le diverse patologie che possono causare il nostro sanguinamento per quello che riguarda il management noi possiamo scegliere diversi tipi di approccio sicuramente un primo approccio un trattamento medico un trattamento chirurgico ovviamente vedremo come il differente approccio terapeutico dipenda sicuramente dalla personalizzazione quindi dalla donna che abbiamo davanti dall'età dal desiderio di gravidanza dall'entità anche del sanguinamento esistono anche delle tecniche non chirurgiche non mediche di cui in realtà non ho molto approfondito ma che sappiamo essere sviluppate specialmente negli ultimi periodi soprattutto per quello che riguarda l'approccio ai fibromi all'adenomiosi soprattutto che stanno iniziando a prendere campo anche se ad oggi ancora non abbiamo risultati che confermino la reale utilità di queste tecniche soprattutto nelle donne giovani in età fertile che vogliono conservare soprattutto la loro fertilità quindi come dicevo prima a seconda dell'età della donna che ci troviamo da bianchi dobbiamo renderci conto proprio anche della necessità della donna stessa di quello che è la sintomatologia e la conservazione della fertilità sicuramente l'approccio diagnostico parte da una storia clinica quindi capire questo sanguinamento quando interviene quindi se è un sanguinamento abbondante legato alla mestruazione se è un sanguinamento intermestruale se è un sanguinamento postmestruale un sanguinamento postcoitale quindi la storia clinica rappresenta sicuramente per noi che spesso siamo in ambulatorio e che a volte utilizziamo sicuramente l'ecografia quasi come primo strumento per fare diagnosi di patologia dobbiamo tornare invece a quello che è la storia clinica dobbiamo chiedere se per esempio c'è familiarità per sanguinamento uterino anomalo per un sanguinamento abbondante se dal menarca questo sanguinamento è presente perché come vedremo più avanti ad esempio delle coagulopatie si presentano fin dall'età del menarca come un sanguinamento uterino anomalo e possono rappresentare l'unico sintomo di questa patologia sicuramente l'esame clinico e l'ecografia trasvaginale che aiutata dalla sonoesterografia sicuramente ci permette un miglioramento di quello che è la conferma della nostra sospetta diagnosi clinica e sicuramente l'isteroscopia che ci permette di non solo visualizzare l'eventuale patologia endocavitaria ma ci permette anche con la metodica del TN-Trit e con l'utilizzo di strumenti miniaturizzati di poter trattare direttamente la patologia in caso appunto di una paziente compleante e quindi di poter trattare direttamente in un'unica seduta la nostra patologia se penso ad un polipo o addirittura a un piccolo mioma oppure di fare delle biopsie mirate proprio sotto guida visiva il che ci permette sicuramente anche un miglioramento di quello che è poi la diagnosi istologica se andiamo ad analizzare le cause di sanguinamento e quindi il relativo trattamento terapeutico del sanguinamento e se partiamo dall'adolescenza sicuramente come è già stato sottolineato la prima causa di sanguinamento serino anomalo in adolescenza è rappresentato dai cicli anovulatori e quindi da un'immaturità del sistema asse iposalamo-ipofisi sicuramente le disfunzioni ovulatorie contribuiscono non solo alla presenza del sanguinamento serino anomalo ma possono anche manifestarsi come anche un'alterazione del timing della mestruazione quindi le nostre pazienti giovani si presenteranno al nostro ambulatorio lamentando non solo dei cicli irregolari ma molto spesso dei cicli molto abbondanti è importante come dicevo prima chiedere se questo sanguinamento irregolare e questo sanguinamento anomalo abbondante e abbiamo visto appunto con la prima collega come anche cercare di quantificare il più precisamente possibile mediante appunto dei form degli schemi che ci permettono appunto di quantificare il sanguinamento di capire appunto se siamo di fronte o meno a un sanguinamento di tipo anomalo sicuramente esistono altre cause oltre alla disfunzione ovulatoria che possono essere causa di sanguinamento in adolescenza e se pensiamo alla sindrome dell'ovaio policistico talvolta all'ipotiroidismo alterazioni della prolattina lo stress sia in senso fisico ma anche in senso mentale quindi le variazioni estreme di peso l'obesità e l'anoressia un calo rapido di un dimagrimento molto rapido o un intenso esercizio fisico e anche cause iatrogene quindi nel momento in cui individuiamo fra queste diciamo patologie fra queste cause la possibile responsabile del sanguinamento anomalo l'andare a trattare la specifica causa ripristinerà quello che è la normale ciclicità e soprattutto la riduzione del sanguinamento ovviamente quello che è importante fare durante un counseling con la nostra paziente specialmente con le ragazze giovani e spesso anche con le mamme è come queste situazioni da anovulazione o una se pensiamo all'ovaio policistico o al trattamento dei sanguinamenti anomali dovuti a uno stress mentale o a variazioni disturbi dell'alimentazione come il recupero necessiti di tempo quindi non sia immediato ad esempio con il recupero del peso corporeo un'immediata ripresa della regolare ciclicità e del normale sanguinamento ma come in realtà l'organismo necessiti di un adattamento per ripristinare normalmente la ciclicità mestruale quando ci troviamo di fronte ai disturbi ovulatori per quello che riguarda il trattamento medico sicuramente dobbiamo distinguere se il sanguinamento della nostra giovane paziente è un sanguinamento che può essere trattato in maniera da ospedalizzata cioè se il sanguinamento è acuto e talmente profuso da provocare un'animizzazione della nostra paziente oppure se è un sanguinamento che può provocare sia un'animizzazione ma con valori di emoglobina diciamo accettabili e che può essere gestito tranquillamente a domicilio capitano spesso credo anche a voi ma sono capitate spesso anche specialmente in questi ultimi due anni di pandemia numerosi accessi di ragazze giovani adolescenti con sanguinamenti e con emoglobine sotto a 8 e che necessitavano di ospedalizzazione e che necessitavano sicuramente di un trattamento che potesse interrompere questo sanguinamento sicuramente il farmaco più utilizzato e rappresentato dall'estroprogestinico ovviamente utilizzato a dosi diciamo con un dosaggio di 30-50 microgrammi di epinile stradiolo in maniera tale che possa andare a lavorare subito su quello che è l'effetto di blocco del sanguinamento acuto che può essere utilizzato anche ogni 6-8 ore fino all'iniziale diminuzione del sanguinamento quindi sicuramente nel caso in cui abbiamo valori di emoglobina sotto a 8 con la paziente che lamenta astenia tachicardia c'è necessità di talvolta di ospedalizzazione e di introdurre una terapia appunto estroprogestinica ad alte dosi in maniera tale da in generale il blocco del sanguinamento invece per sanguinamenti di tipo moderato o lieve in cui diciamo i valori di emoglobina sono stabili possiamo utilizzare sempre la nostra terapia estroprogestinica con 30-50 microgrammi di etinile stradiolo da utilizzare 8 ogni 8-12 ore fino alla riduzione del sanguinamento e successivamente da proseguire per almeno 21 giorni nella nostra pratica clinica consigliamo di proseguire la terapia estroprogestinica ovviamente una volta ridotto il sanguinamento a dosaggio diciamo di 30 microgrammi di etinile stradiolo per almeno 6 mesi per dare diciamo all'organismo anche il tempo di ripristinarsi a livello di emoglobina e comunque sia di recupero di quello che è l'anemia più difficile utilizzare l'aiuto medicato all'evonorgestrel soprattutto nelle adolescenti e nelle ragazze giovani tuttavia nelle raccomandazioni viene proposta anche come terapia a lungo termine altre cause di sanguinamento come dicevo già prima nella ragazza giovane nell'adolescenza sicuramente dobbiamo pensare anche altri disturbi come ad esempio disturbi ematologici l'assunzione di farmaci traumi addirittura infezioni dell'apparato genitale questo parlandoci comunque sia visitandola ci accorgeremo se ci sono presenti diciamo alterazioni di quello che è il tratto genitale inferiore ma vorrei fare giusto due parole sulle coagulopatie perché per quanto siano diciamo abbastanza difficili da abbastanza rare dal punto di vista diagnostico però nelle ragazze con sanguinamento serinonomalo hanno una prevalenza più elevata e per quello che riguarda la coagulopatia più frequentemente riscontrata nelle donne è appunto un'alterazione delle fiastrine per quello che riguarda l'adolescenza la prevalenza l'incidenza varia dal 3 al 44% quindi i lavori hanno un range di prevalenza abbastanza ampio tuttavia quello che viene più e più volte sottolineato è come nelle donne con sanguinamento serino anomalo rispetto alla popolazione generale le patologie ematologiche e quindi le coagulopatie siano più frequenti e se pensiamo alla patologia ad esempio alla malattia di von Willebrand che nella popolazione generale ha una prevalenza di circa l'1% nelle donne con sanguinamento serinonomalo questa prevalenza sale al 13% e addirittura nelle adolescenti può raggiungere il 36% e addirittura per quello che riguarda la patologia di von Willebrand l'inizio delle mestruazioni abbondanti è già dalmenarca quindi addirittura l'American College propone nelle pazienti con sanguinamento serino abbondante con un sanguinamento anomalo già dall'adolescenza di effettuare lo screening per le coagulopatie addirittura sotto i 18 anni per quello che riguarda sicuramente la terapia nelle coagulopatie è importante un approccio multidisciplinare quindi il ginecologo non può fare tutto da solo ha bisogno dell'aiuto fondamentalmente dell'ematologo sicuramente anche in questo caso è possibile sia nel deficit piastrinico ma anche nella malattia di von Willebrand associare altri farmaci farmaci ginecologici appunto una terapia ermonale che possono essere rappresentati dall'estroprogestinico ma anche dall'analogo del genere nrh questo viene da pensare a un caso che ci è capitato recentemente di una paziente affetta da malattia di von Willebrand che ha fatto un sanguinamento importante da rottura di corpo luteo è stata diciamo trasfusa ha fatto il fattore di von Willebrand quindi ha fatto due somministrazioni a distanza di 24 ore del fattore di von Willebrand ma il collega ematologo ci ha fatto introdurre l'analogo del genere nrh combinato con l'estroprogestinico per diciamo dare un blocco del ciclo mestruale per cercare di ripristinare questa paziente era arrivata a 5,2 di emoglobina quindi avevamo la necessità di bloccare questa mestruazione quindi è importantissimo collaborare con i colleghi ematologi per quello che riguarda una terapia combinata sicuramente l'utilizzo di antifibrinolitici come l'acido tranexamico possono essere utilizzati sia in combinazione con il fattore di von Willebrand pensando alla malattia di von Willebrand ma anche con l'utilizzo di estroprogestinici estroprogestinici sicuramente il trattamento chirurgico deve essere considerato solo nel caso in cui il trattamento medico non porta a risoluzione del problema ma soprattutto anche nel caso in cui abbiamo anche la necessità di andare a bloccare un sanguinamento che in quel caso lì porti a un emoperitoneo o comunque una condizione di shock della nostra paziente abbandonando quella che è l'adolescenza in cui sicuramente questa parte di patologia è meno frequente e ci spostiamo verso l'età fertile andiamo a riprendere un pochino in mano tutte le patologie che abbiamo visto precedentemente e perfettamente descritte ecograficamente dalla collega e inquadrate ancora precedentemente e stendiamo a pensare ai polipi endometriali vediamo come sicuramente non tutti i polipi che vediamo devono essere asportati e devono essere portati in sala operatoria ma se partiamo da un concetto di sanguinamento serino anomalo cioè una paziente che si presenta con una sintomatologia e individuiamo una formazione polipoide sicuramente la prima proposta è di andare a fare un'asportazione chirurgica ovviamente con una diversa reattività riguardo alla classe di priorità e di necessità di velocità andare a togliere il nostro polipo a seconda se la nostra paziente sia una donna in età fertile oppure una donna in menopausa sicuramente un sanguinamento serino anomalo con una formazione polipoide in post menopausa accelereremo senza dare diciamo se le caratteristiche ecografiche sono rassicuranti senza dare panico alla nostra paziente la invieremo a un'asportazione altrimenti una donna in età fertile potremo pure ricontrollarla dopo il ciclo successivo oppure se persiste il sanguinamento potremo programmare un'asportazione ambulatoriale o in sedazione a seconda della dimensione del polipo della localizzazione della parità della nostra paziente ci sono pazienti che in sedazione in ambulatoriale riescono a essere compleanti all'asportazione del polipo se pensiamo per esempio all'asportazione con gli strumenti menaturizzati come per esempio i piccoli morcellatori oppure la programmeremo se il nostro polipo ha delle dimensioni che superano il centimetro centimetro e mezzo la programmeremo in sedazione ovviamente se pensiamo per esempio a una donna giovane che sta cercando gravidanza in cui intercettiamo una formazione polipoide endometriale anche in questo caso qui potremmo fare un follow up di un mese due mesi per vedere se la formazione regredisce spontaneamente con le mestruazioni oppure in un programma di fertilità andremo a rimuovere il nostro polipo con la nostra conferma istologica per quello che riguarda la denomiosi sicuramente è una patologia che oggi sta emergendo anche se in realtà se riguardiamo in letteratura sia per quello che riguarda la prevalenza e sia per quello che riguarda anche la standardizzazione della terminologia istologica abbiamo un gran range di variabilità quindi una patologia che varia dal 20 al 70% con una diciamo difficile anche standardizzazione per quello che è i criteri istologici se si guarda i diversi lavori della letteratura sicuramente quello che è stato fatto nella revisione del 2018 per quello che riguarda la denomiosi è stato suggerito di utilizzare e questo è la speranza cioè di utilizzare tutti la stessa terminologia per lo meno dal punto di vista diagnostico per descrivere i criteri ecografici di sospetto di adenomiosi uterina definiti appunto dal Mosa Statement del 2016 come precedentemente presentati dalla collega Valentina ed è folle secondo me ecco questa è un'idea mia come poter pensare a una diagnosi definitiva di adenomiosi solo con l'istologia quando abbiamo come abbiamo visto un'ecografia e una risonanza magnetica che sicuramente è stato il primo esame diagnostico che ha standardizzato la terminologia e i criteri diagnostici per l'adenomiosi andare a parlare di adenomiosi solo quando abbiamo un risultato istologico in mano quindi sicuramente la diagnostica ecografica e di risonanza magnetica ci permettono di avere un forte sospetto per quella che è il sospetto appunto di patologia adenomiosica nella fattispecie come diceva prima il professor Vercellini io sono una grande appassionata per quello che è la parte ecografica dell'adenomiosi e abbiamo anche provato a fare una sorta di classificazione della severità dell'adenomiosi in correlazione a quello che è la sintomatologia clinica quello che abbiamo visto è che se noi guardiamo bene al miometrio delle nostre pazienti vediamo come l'adenomiosi in realtà non sia più una patologia solo tipica delle donne un po' più adulte da 35 ai 50 anni che hanno già avuto gravidanze e che hanno disturbi del ciclo ma come si possa riscontrare anche in ragazze più giovani addirittura anche nelle ragazze diciamo adolescenti con diciamo una media di 16 anni e nullipare che non abbiano avuto gravidanza quindi di dare uno sguardo un pochino più approfondito senza creare panico senza creare per forza una terapia perché obiettivamente la terapia la si dà nel momento in cui c'è una sintomatologia oppure nel momento in cui c'è un problema che la paziente pone altrimenti l'adenomiosi viene si segnalata nel report ma gli viene dato anche un significato di base di patologia concomitante di presenza di endometrio nel miometrio quasi come una sorta di parafisiologia quando non associata a sintomatologia quello che dicevo prima ci abbiamo un po' guardato agli uteri delle ragazze giovani abbiamo visto come per esempio nelle nullipare qui avevamo preso le studenti di medicina presentassero dei segni di adenomiosi diffusa o focale ma come in realtà quello che ci interessava di più è chi aveva qualche segno di adenomiosi presentasse una sintomatologia e in quel caso lì può avere senso indirizzare una paziente per esempio a un'ecografia più approfondita oppure anche a una terapia nel caso in cui sia presente un sintomo e lo stesso abbiamo fatto con le adolescenti abbiamo visto come in realtà ci siano delle lesioni focali già nel miometrio specialmente nelle ragazze adolescenti che presentavano una coesistenza anche per esempio di endometriosi quindi sicuramente nelle sintomatiche adolescenti con segni anche di endometriosi anche l'utero poneva del sospetto per la presenza di adenomiosi ma abbandonando diciamo quello che è le giovani ragazze e le adolescenti se andiamo a guardare il trattamento medico o il trattamento chirurgico per quello che è l'adenomiosi sicuramente sappiamo che non esistono dei farmaci label ad oggi per l'adenomiosi sicuramente il farmaco più utilizzato è rappresentato dal progestinico la cui diciamo il cui utilizzo il cui meccanismo di azione si basa sull'effetto proprio antiproliferativo e antinfiammatorio che il progestinico ha sull'endometrio stesso portando una riduzione di quello che è il sintomo sanguinamento con miglioramento non solo del sanguinamento ma anche del dolore spesso associato all'adenomiosi perché come sappiamo i sintomi proprio tipici riferiti dell'adenomiosi sono rappresentati dal sanguinamento ma anche dalla dismenorrea ci sono numerissimi lavori che sicuramente vedono il metrostiprogesteronacetato e il neta come i progestinici più utilizzati anche a lungo termine anche per lunghi periodi di tempo appunto dalle donne nella nostra pratica clinica utilizziamo prevalentemente il neta sia per via orale che per via vaginale con periodi di trattamento che superano anche i 12-24 mesi con un benessere della nostra paziente per quello che riguarda sicuramente la riduzione del sanguinamento e la riduzione del dolore pelvico esistono anche degli studi più recenti sull'utilizzo del dienoges per via orale 2 mg fino a 16 settimane soprattutto focalizzati su quello che è la riduzione del dolore e il miglioramento della qualità della vita questi lavori hanno evidenziato sì un'efficacia sul dolore parlano un po' meno del bleeding perché probabilmente proprio un effetto diciamo collaterale del side effect del dienoges rappresentato anche proprio dal sanguinamento a volte è più difficile raggiungere una menorrea rispetto agli altri due progestinici sicuramente il neta rappresenta se vogliamo andare a scegliere una via appunto orale o vaginale il farmaco di prima scelta vi faccio vedere giusto due immagini di casi nostri come in realtà come funzioni bene la terapia medica su quello che è l'adenomiosi e quindi questo era un utero ora non mi parte il video comunque con un adenomioma segni di adenomiosi focale all'interno del miometrio dopo sei mesi di assunzione di neta in continuo la signora ovviamente stava benissimo non aveva sanguinamento vedete quasi non sembra nemmeno lo stesso utero e nemmeno la stessa scansione tridimensionale abbiamo fatto il follow up dopo 18 mesi in cui la paziente era tornata in realtà per ricomparsa di sanguinamento e anche ecograficamente erano iniziavano a ricomparire vedete qui che c'è c'è sintramiometriale alcuni segni ecografici di come se il farmaco non riuscisse più a tenere questo effetto antiproliferativo e antinfiammatorio delle cellule endometriali nel contesto del miometrio la ricorrenza della menorragia è come in realtà la nostra paziente nonostante un counseling proposto una terapia alternativa con una spirale medicata abbia preferito passare direttamente alla via streptomia sosale era una signora di 47 anni quindi ha deciso per la terapia definitiva conservativa ma come sicuramente l'utilizzo del farmaco permetta l'assunzione del farmaco definisca anche dei cambiamenti per quello che è il nostro aspetto ecografico e che nel momento in cui ricompare il sintomo anche dal punto di vista ecografico avevamo rivisto cambiare quello che è l'aspetto proprio tipico dell'adenomiosi sicuramente il trattamento di scelta specialmente nelle donne che hanno espletato il loro desiderio gravidico e che comunque siano appunto affette da adenomiosi e da sintomatologia come il sanguinamento serinonomalo l'utilizzo dell'aiuto dedicato all'Evonorgestre rappresenti sicuramente una terapia di prima scelta per quello che riguarda il contenimento del sanguinamento e anche il miglioramento di quello che è la dismenorrea con un elevato livello di soddisfazione da parte della donna stessa quindi un trattamento che permette in maniera locale per 4-5 anni di tenere il sanguinamento responsivo appunto all'Evonorgestre sotto controllo quindi molto spesso le pazienti addirittura nonostante siano vicino al periodo di ferimenopausa addirittura sostituiscano la spirale fino proprio alla vera e propria transizione con la menopausa sicuramente il trattamento definitivo quello che ci permette di non sanguinare più nel caso appunto di adenomiosi è rappresentato ovviamente dall'isterectomia e ovviamente però è un trattamento questo che si riserva alle donne che sicuramente non hanno più un desiderio di gravidanza perché il dubbio ci viene nel momento in cui noi ci troviamo di fronte a delle pazienti magari non più giovanissime di 42 anni che hanno un quadro ecografico di adenomiosi abbastanza importante che ci parlano di desiderio di gravidanza quindi quali strategie abbiamo che cosa noi possiamo proporre a queste pazienti possiamo proporre la chirurgia se ovviamente non parlo di il concetto di fecondazione assistita perché ovviamente è là che le pazienti dovranno afferire però dobbiamo guardare bene in letteratura come esistono tanti lavori che propongono la chirurgia per la adenomiosi una chirurgia ovviamente conservativa e dobbiamo stare attenti quando noi parliamo con le nostre pazienti perché per quello che riguarda se guardiamo le review e le metanalisi vediamo come in realtà esistono sì un po' di lavori ma sono lavori che hanno dei bassi numeri di pazienti sono gruppi molto eterogenei tra di loro difficilmente confrontabili e quindi il tasso di successo il pregnancy rate dopo la chirurgia conservativa per la adenomiosi sicuramente rimane un bel punto di domanda quindi dati certi non possiamo sicuramente darli per quello che riguarda un trattamento chirurgico quello che dobbiamo sicuramente dire alla nostra paziente è che è una chirurgia non semplice che non tutti i chirurghi possono andare e proporsi per una chirurgia conservativa della adenomiosi e che la paziente deve avere un ottimo consenso informato in tal caso perché anche quello che sul pregnancy rate successivo purtroppo le percentuali sono molto basse soprattutto anche quello che può succedere dopo la chirurgia conservativa per adenomiosi perché sappiamo come l'interesse oggi della adenomiosi sia focalizzato non solo sulla sintomatologia sanguinamento e dolore ma sul potenziale ruolo della adenomiosi stessa sulla fertilità quindi esistono numerosi lavori importanti per quello che riguarda appunto l'impatto dell'adenomiosi su quello che è il tasso di aborto spontaneo nel primo trimestre stanno uscendo lavori su quello che è i potenziali rischi ostetrici della paziente con adenomiosi che rimane in gravidanza sia spontaneamente che con fecondazione assistita su quelle che sono i potenziali rischi ostetrici sia neonatali che materni quindi rischio di preclampsia parto pretermine alterata placentazione placenta previa ma come in realtà sia difficile suggerire alla nostra paziente che ha un desiderio di gravidanza con una adenomiosi importante quello che riguardi il pregnancy rate dopo chirurgia questo perché i dati sono pochi difficilmente paragonabili e difficilmente standardizzabili passando a un altro tema dell'età fertile passiamo sicuramente ai fibromi uterini che rappresentano sicuramente una delle cause più frequenti di sanguinamento uterino-onomalo in età fertile delle nostre pazienti l'ecografia la sonovisterografia ci permettono di classificare tramite la classificazione figo non solo il numero ma anche la precisa più o meno precisa localizzazione dei nostri fibromi all'interno del nostro utero che ci permette sulla base sempre della nostra paziente e dell'appunto l'aspetto di benignità che è il fibromo di decidere per una chirurgia definitiva che è rappresentata dall'isterectomia e la modalità di isterectomia poi verrà decisa anche sulla base del numero delle dimensioni dell'utero un approccio laparoscopico piuttosto che un approccio laparotomico sulla base anche delle caratteristiche dei progressi interventi chirurgici della paziente o un approccio di tipo conservativo che ci deve garantire una completa escissione della nostra formazione miomatosa e un'integrità del miometrio circostante evidentemente soprattutto per le pazienti che giovani che desiderano poi sottoporsi a gravidanza quindi sulla base della localizzazione del fibroma del nostro fibroma e del numero dei nostri fibromi opteremo per una miometromia esteroscopica se il fibroma è un fibroma G0 G1 G2 nei casi in cui ovviamente dipende anche dalle dimensioni e parlando con la paziente spiegando che magari i fibromi più grandi necessitano più steppi esteroscopici oppure una miometromia laparoscopica o una mini laparotomia a seconda anche del numero dei fibromi sempre per rimanere nel concetto della chirurgia mini invasiva perché mini invasiva non significa solo piccoli accessi ma una mini invasività può essere rappresentata anche da una riduzione del tempo operatorio effettuando per esempio in una miometromia multipla mini laparotomica che può essere effettuata magari in un tempo chirurgico in un tempo anestesiologico notevolmente inferiore rispetto a una miometromia laparoscopica che prevede il tempo della sutura chirurgica che sicuramente rappresenta un momento più lungo per quello che riguarda anche le skill del chirurgo stesso ovviamente sempre per quello che riguarda i fibromi l'ecografia ci deve guidare e nel caso di dubbio ovviamente ci dobbiamo anche afferire a una radiologia di secondo livello questo perché è importante la diagnosi differenziale non solo per la parte chirurgica perché se noi andiamo a operare un mioma o un adenomioma nonostante l'adenomioma abbia una consistenza più soffice abbia una pseudocapsula per quello che riguarda l'adenomiometromia la difficoltà chirurgica sicuramente non cambia ovviamente se scambiamo un'adenomiosi diffusa della parete posteriore con un fibroma ecco lì ci troviamo un po' nei guai perché ovviamente andiamo ad aprire il miometrio e non troviamo quello che è la lesione stessa questo perché l'adenomiosi diffusa è diciamo tutta nel contesto della parete uterina e quindi non si ha una formazione reale da togliere ma per quello che esula dalla chirurgia e se noi pensiamo alla terapia medica e al grande utilizzo che è stato fatto della terapia medica per i fibromi serini e pensiamo in questo caso all'utilizzo dell'ulipristal acetato che ha dato dei grandissimi risultati per quello che riguardava la riduzione del sanguinamento la riduzione del volume del mioma quanto è importante fare poi ovviamente tutti sapete che è stato rimosso per tutte le problematiche eccetera eccetera però all'inizio c'è stato un grande utilizzo dell'ulipristal ogni volta che veniva intercettata una formazione miometriale che potesse avere le caratteristiche del fibroma e come come si suol dire sbagliando si impara anche sono c'è capitato un caso anche a noi in cui una formazione della parete anteriore verosimilmente classificata come fibroma era la nostra paziente era stata sottoposta a un trattamento con ulipristal e vedete come la nostra formazione a tre mesi di distanza è cambiata quindi è cambiata in termini di vascularizzazione è cambiata anche in termini di endometrio quindi l'endometrio che qui era un endometrio prevalentemente sottile aveva subito le trasformazioni caratteristiche della terapia con l'ulipristal quindi il cosiddetto PAEC e come la paziente continuasse a sanguinare ovviamente in prima battuta c'era stato un impaurirsi come per patologia di tipo di tipo spostata verso il maligno in realtà era un adenomioma che era stato sottoposto a una terapia completamente sbagliata e abbiamo visto ma ci sono presenti in letteratura come l'utilizzo dell'ulipristal nell'adenomiosi va ad aumentare quello che è l'entità delle lesioni adenomiotiche e in particolare si ipertrofizzino le lesioni adenomiotiche stesse rispondendo proprio allo stimolo sull'endometrio stesso e anche la vascularizzazione vada ad aumentare quindi come l'ecografia sicuramente ci guidi nella scelta non solo della chirurgia né nella parotomia la paroscopia isteroscopia ma anche nella scelta del corretto trattamento medico andiamo a non ho stressato molto il concetto della parte maligna questo perché perché per quello che riguarda la terapia la terapia del cancro dell'endometrio sicuramente noi sappiamo come l'istologia ci guidi non solo sull'istotipo ma anche su proprio soprattutto per quello che riguarda sull'istotipo e come l'ecografia in combinazione con la radiologia la risonanza magnetica ci permetta anche di andare a valutare l'infiltrazione dell'infiltrazione endometriale all'interno del miometrio e si vada nella maggior parte dei casi fortunatamente perché i cancri dell'endometrio ad oggi fortunatamente si individuano in stadio percoce e grazie anche agli studi probabilmente citati prima ancora prima e quindi l'intervento chirurgico l'istrectomia extravasciale con l'anestectomia bilaterale con o senza l'infadenectomia o con l'infonodo sentinella rappresenti sicuramente il trattamento di scelta per quello che riguarda lo stadio 1 e lo stadio 2 ho voluto sottolineare un pochino di più la parte benigna quindi la parte dell'iperplasia per quello che riguarda il trattamento medico legato al sanguinamento uterino anomalo e abbiamo visto come nell'iperplasia endometriale in cui sicuramente dobbiamo partire sì da un sospetto ecografico ma da una base di istologia in cui il trattamento con il progestinico e verosimilmente con la spirale medicata al progesterone rappresenti il trattamento di prima scelta che va a modificare contrastando l'effetto proliferativo estrogenico in maniera soprattutto in maniera locale vada a riportare lo spessore endometriale e successivamente diciamo al controllo esteroscopico la normalizzazione di quello che è il quadro appunto istologico il trattamento generalmente entro la durata del trattamento in 3-6 mesi si ha una regressione di quello che è il quadro istologico iperplastico addirittura dall'84 al 100% per quello che riguarda la spirale medicata all'evonorgestrel con il medrosi progesterone acetato per via orale si ha una diciamo ci vuole più tempo a raggiungere il dato di negativizzazione dell'iperplasia e ovviamente prevede un follow up all'inizio iniziale a 6 mesi per quello che riguarda la iperplasia atipica soprattutto nel caso della preservazione della fertilità o se pensiamo a pazienti che hanno un rischio anestesiologico molto alto pazienti molto obese BPCO che hanno un rischio anestesiologico più alto rispetto a una possibile terapia medica la spirale medicata con l'evonorgestrel è considerata come il trattamento diciamo di prima scelta anche nella iperplasia atipica mentre il progestinico per via orale deve essere considerato come una terapia alternativa e sicuramente anche in questo caso qui devono essere effettuati controlli a distanza di 6 mesi per confermare diciamo sempre sotto guida stereoscopia ovviamente con biopsie guidate per valutare appunto l'istologia stessa ho messo giusto un accenno e qui finisco sul sanguinamento di iatrogeno perché specialmente nelle nostre nonnine che a volte accedono al pronto soccorso il sanguinamento uterino può essere dovuto all'assunzione di terapie anticoagulanti quindi sicuramente un inquadramento ecografico rappresenta il primo step non sempre nelle pazienti che hanno un sanguinamento uterino e un'ecografia completamente negativa debbano essere sottoposte a un'isteroscopia diagnostica e lo stesso vale come diceva prima la collega per il tamoxifene nel momento in cui il tamoxifene la sonoisterografia e l'assenza di vascularizzazione o anche di sanguinamento ci permette di evitare delle isteroscopie e quindi delle biopsie completamente inusili per quello che riguarda la terapia sicuramente evitare evitare tutto ciò che l'acido tranexamico ecco ma l'utilizzare se possibile terapia con progestinici quindi sicuramente per il trattamento dei sanguinamenti uterini anomali si parte possibilmente da una diagnosi il più appropriata possibile è importante andare ad integrare il trattamento medico e il trattamento chirurgico e individualizzare il trattamento sulla specifica paziente che abbiamo davanti sull'età sul desiderio di gravidanza sui progressi interventi insomma bisogna parlare un pochino con la nostra paziente per riuscire ad individuare la strategia migliore per essere il più efficace possibile a lungo termine e per minimizzare i rischi per la paziente stessa del nostro trattamento vi saluto vi ringrazio vi vorrei lasciare con una piccola chicca invitandovi a Siena non solo per un non solo per congressi ma anche per vedere questa bellissima città che sicuramente è conosciuta per la piazza del campo ma un po' meno conosciuta magari per questo bellissimo luogo che è rappresentato dall'ospedale di Santa Maria della Scala che era stato istituito al tempo dai canonici del Duomo infatti si trova proprio in piazza del Duomo da queste finestre si vede il Duomo e che rappresentava il luogo di accoglienza dei malati e dei poveri e degli abbandonati all'epoca del Medioevo dovete sapere che questo posto fino al 1995 ha rappresentato l'ospedale di Siena e come tutti gli ospedali dei canonici all'interno delle sale bellissime e vi volevo giusto proporre questa come saluto come questo rappresentava il pellegrinaio ovvero la corsia ospedaliera femminile fino al 1995 come in realtà nella nostra piccola città di Siena fino al 1995 da ricoverati vedevamo queste bellezze oltre a essere diciamo curati e magari il mood migliorava e come appunto esista questo meraviglioso posto da visitare che adesso è oggi un'opera museale dove vengono effettuati eventi e vi ringrazio cara Lucia ti ringrazio moltissimo anche di questa chiosa che come sai a cui io tenevo molto e perché trovo che sia qualcosa di veramente incredibile poi riprendiamo la nostra discussione ma io ricordo di essere capitato quasi per caso in quell'ospedale durante un giro turistico e non ci si potrebbe credere ma in un ambiente con affreschi quattrocenteschi erano parcheggiate le ambulanze cioè le ambulanze entravano e uscivano in un in un ambiente dove c'erano gli affreschi quattrocenteschi alle pareti e io sono rimasto veramente allibito l'ospedale funzionava ancora a quel punto funzionava soltanto per servizi ambulatoriali non c'erano ancora non c'erano più diciamo letti di degenza ma è davvero qualche cosa che credo possa capitare soltanto in Italia e veramente è una delle nostre caratteristiche allora io abbiamo un attimo c'è una domanda nella chat da Ambrosetti Fedora buongiorno che dati su spirale a rame per levi mestrual bleeding in pazienti in cui non si può applicare un'aiuto medicata all'evonorgestrel beh a rame per levi mestrual bleeding obiettivamente non saprei ecco credo di non averci nemmeno ma guardato anche perché obiettivamente le controindicazioni alla spirale medicata all'evonorgestrel nell'evi mestrual bleeding sono veramente poche cioè si utilizza addirittura nell'evi mestrual bleeding nelle donne che hanno un cancro al seno cioè c'è la possibilità di utilizzare quindi l'andare a utilizzare il rame non lo vedo proprio di nessun aiuto cioè no chiede se in caso di progresso melanoma si può quindi utilizzare allora in caso di progresso melanoma se ovviamente la 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 stagiazione insomma la terapia è assolutamente sì 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 non l'utilizzo tanto nelle pazienti con con leucemia con patologia oncologica abbiamo una bella collaborazione con con l'oncologia con l'ematologologia e quindi specialmente nelle ragazze che per esempio con leucemia sanguinano e devono sottoporsi per esempio a trapianto auto trapianto e sono giovani e mestruano spesso hanno dei sanguinamenti che le portano a una riduzione dei parametri ematologici che sono importanti per per il trapianto stesso e quindi è l'ematologo stesso che ci richiede un o un estroprogestinico o un progestinico per ridurre al minimo il sanguinamento quindi lo spazio c'è per l'utilizzo ho una domanda sia per Chiara che per Lucia nel vostro nei vostri ospedali come affrontate il sanguinamento il sanguinamento uterino in periodo riproduttivo il sanguinamento uterino acuto in particolare un tempo quello che viene definito curetage endometriale insomma era demonizzato e si è molto puntato sul trattamento medico vorrei avere una vostra opinione su questo e poi vorrei insieme a voi affrontare anche il problema del trattamento del sanguinamento cronico dovuto a specialmente a patologie organiche tipo adenomiosi e fibromi in donne non più desiderose di prole vorrei discutere poi con voi appunto il ruolo dell'isterectomia che è sempre marginalizzato ma credo che bisognerebbe fare alcune considerazioni anche di costo efficacia ma ritorno alla prima domanda nei vostri nei vostri pronto soccorso come affrontate questa evenienza cioè il sanguinamento acuto la metrorragia o la menorragia da causa organica generalmente il primo il primo approccio è comunque sempre medico ovviamente va viene valutato in base alla alla gravidanza scusa posso aggiungere una cosa cioè il sanguinamento che però si associa ad animizzazione mi riferisco a un evento acuto severo cioè qualcosa che non può essere gestito ambulatorialmente ecco che comunque necessita un ricovero ecco quindi con animizzazione la donna che si presenta e che ha 8 di moglobina 9 di moglobina 7 di moglobina dipende dalle situazioni ecco diciamo che se il sanguinamento è in atto comunque si inizia immediatamente con un trattamento di tipo medico se si ha una stabilizzazione e un arresto della perdita la patente viene ricoverata monitorizzata eventualmente trasfusa se si ritiene opportuno se invece il sanguinamento è inarrestabile si va in sala operatoria anche abbastanza ovviamente celermente alcune condizioni però magari richiedono ad esempio in caso di miomi in espulsione o condizioni particolari in cui è neanche necessaria un'expertise chirurgica che può essere diversa da quella che è necessaria per eseguire uno semplice curetage si valuta anche in base ovviamente all'equipe presente e sapendo comunque il rischio poi di dover magari passare a procedure più invasive quali eventualmente isterectomia nel caso di sanguinamento non si arresti l'approccio medico è sempre associato per cercare di guadagnare almeno quel po' di tempo che ti permette poi di organizzare una seduta operatoria adeguata ecco Lucia Sì allora ovviamente anche in caso di ospedalizzazione si inizia con un tentativo di stabilizzazione medica quindi utilizziamo il famoso Tranex anche a dosaggi un grammo per tre o un'eventuale emotrasfusione e poi sulla base di quello che può essere la causa del sanguinamento la portiamo in sala a seconda del come diceva Chiara della patologia poi è ovvio se avessimo anche a disposizione dipende da dipende da quello che sospettiamo che sia se abbiamo un espessimento endometriale che è anomalo che non ci riporta fibromi non ci riporta verosimilmente andiamo incontro a un curettage ovviamente se c'è un mioma di espulsione andiamo e togliamo il mioma fare un'isterectomia d'amblè ecco insomma generalmente si cerca di no no io mi riferivo proprio al ruolo al ruolo del curettage che 20-30 anni fa ha incominciato ad essere identificata come una misura rozza una misura ignorante una misura solo temporaneamente efficace ma la mia personale opinione è che in svariate circostanze anche nei nei casi di sanguinamento anovulatorio acuto con animizzazione noi dovremmo avere anche un obiettivo che è quello di cercare di evitare la trasfusione sia per quella specifica paziente specie se giovane ma anche in considerazione dell'importanza di salvaguardare il sangue inoltre in buona parte dei casi una revisione della cavità ulterina anche in presenza di fibromi che non siano ovviamente completamente endocavitari certamente ma nella gran parte dei casi è una misura frequentemente risolutiva temporaneamente temporaneamente risolutiva però successivamente poi noi avremo tutto il modo di ragionare con la donna di scegliere il trattamento migliore e avremo anche un esame istologico che insomma tutto sommato ci orienta sia dal punto di vista diagnostico che dal punto di vista prognostico per quanto riguarda invece il ruolo dell'isterectomia nella donna non più desiderosa di prole voi cosa cosa pensate perché abbiamo negli ultimi anni una diciamo novità nel senso che la morbidità dell'isterectomia si è sostanzialmente ridotta dall'approccio laparoscopico anche in presenza di fibromi quindi diciamo siccome dobbiamo sempre fare bilanci mettendo sui due piatti della bilancia vantaggi e svantaggi delle diverse alternative di trattamento è chiaro che se un intervento una procedura chirurgica viene effettuata per via laparotomica avrà un peso se può essere effettuata per via laparoscopica potrebbe averne un altro e quindi vi chiedo come inquadrate nella vostra gestione dei sanguinamenti cronici questa soluzione anche perché sappiamo tutti tutti coloro che hanno una certa esperienza di questi problemi che molto frequentemente la si tira in lungo per anni per poi arrivare magari in un momento in cui si sarebbe potuto cercare di evitare l'isterectomia perché siamo a distanza di uno o due anni dalla presunta epoca menopausale ma a quel punto la donna non ne può più perché ha avuto un calvario di diversi anni prima di tentativi terapeutici non fruttuosi e quindi chiede lei a quel punto l'isterectomia quindi qui vi chiedo la vostra opinione su questo nel nostro istituto generalmente come ovunque immagino il primo approccio è medico di fronte a fallimento del trattamento medico quindi di una donna che comunque continua a avere AUB e è certa diciamo di avere concluso la sua vita riproduttiva sicuramente l'isterectomia viene considerata senza arrivare appunto a trascinare la situazione per magari dieci anni il problema è che molto spesso le pazienti arrivano che già hanno fatto un lungo percorso per cui di fatto hanno già fatto un numero di tentativi e nel momento in cui le prendiamo in carico generalmente si rivaluta e si ripropone un percorso più conservativo se questo non risulta efficace allora si può proporre anche l'isterectomia in accordo ovviamente anche con quello che è il desiderio della paziente è vero che sicuramente dal punto di vista tecnico grazie alla laparoscopia è un intervento molto meglio tollerato è anche vero che stanno aumentando le comorbidità delle pazienti per cui sempre poi difficile sta a bilanciare il rischio operatorio con quello che è l'effettivo disagio e problematiche causate da sanguinamento uterino anomalo l'importante è che le pazienti siano consapevoli che i trattamenti medici siano questi per problemi disfunzionali siano questi per problemi organici tipo fibromio adenomiosi sono trattamenti sintomatici cioè che funzionano finché li si usa il che significa che se si sceglie si fa questa scelta questa scelta dovrà essere prospettata non per qualche mese ma dovrà essere prospettata finché non si raggiunge la menopausa ecco questo diciamo il mio discorso sull'istaretomia si inseriva anche in questa prospettiva ecco cioè il fatto che tante volte le donne non sono consapevoli che i trattamenti che noi proponiamo medici trattamenti medici che noi proponiamo funzionano finché vengono effettuati sì assolutamente è anche un altro fattore importante da considerare la compliance della paziente nel senso che se ci troviamo di fronte a una paziente che immaginiamo possa aver difficoltà a eseguire una terapia sul lungo periodo piuttosto che ritrovarcela poi in pronto soccorso con 6 di emoglobina sicuramente proporre più precocemente un intervento definitivo ha un suo senso ecco abbiamo una considerazione fondamentale il Vabra sulla meteorologia severa in atto cosa ne pensate? quello che diceva un po' prima il prof che sicuramente può essere può essere d'aiuto ecco nel momento in cui ci troviamo una meteorologia e quello quello facciamo per l'emostasi proprio vera e propria e poi abbiamo anche un istologico ecco non è che proprio se se riusciamo con una cannula da 5 mm può essere certamente se non con quella da 3 credo ci possa essere utile nella metroragia acuta esatto abbiamo altre domande dai nostri followers? no al momento non ci sono altre domande bene quindi siccome abbiamo sorpassato il tempo il tempo previsto io vi ringrazio veramente moltissimo per aver accettato i nostri invito per aver dedicato un sabato mattina al nostro aggiornamento vi ringrazio per le vostre presentazioni veramente molto molto apprezzate Federica se vuoi dare il prossimo appuntamento il prossimo incontro sarà sabato 29 gennaio il titolo è covid e gravidanza implicazioni materne e feto neonatali avremo come relatori il professore Enrico Ferrazzi e la dottoressa Serena Donati dell'istituto superiore di sanità modererà l'incontro il professor Fabio Mosca l'appuntamento come sempre alle 10 io vi ringrazio moltissimo come sempre vi auguro buon weekend e allora a sabato prossimo arrivederci arrivederci arrivederci